Aspetta che lo passo su Discord Allora Io ti ho già messo il follow Perché sono il tuo più grande fan Sei moderatore comunque Adesso banno la gente Avremo milioni di gente da bannare ovviamente Adesso banno la gente Si sente l'eco da basire Ok ti ho già Messo il follow Ma ti fanno le donazioni Non posso Perché non sono partner No no le donazioni puoi Sono esterne al partner Non puoi fare Le donazioni sono una cosa esterna Cioè non le puoi mettere a schermo Ma dove sta arrivando l'eco Cioè non le puoi mettere a schermo Non lo so io non lo sento su Discord Non lo so io non lo sento su Discord Ah sono un coglione Hai messo due volte l'audio Eccolo Perché mi stavo guardando da solo su Twitch E mi chiedevo Ma dove arriva l'eco Comunque guardate Puoi tipo cliccare in game Per comprare l'anniversary Wow Cos'è questa tipo E' tipo Quando mi chiede di comprare qualcosa Quetto il video Wow Allora ha preso Come tutte le brave persone Ah non devo fare il PC Eh sì Questa è la parte dove lo crei Anzi no Sai cosa La scena del carretto No 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 Ha ragione Ha ragione Ha ragione Leo Abbiamo bisogno della scena del carretto Eh va bene scusate Vuoi mettere No Ma se adesso spammo il link in giro Allora mi devi comunque leggere la chat tu Perché ogni volta che ha il combo E' Skyrim potrebbe crashare Tipo Morrowind Chi di noi è Oni Bakunenno Credo sia già me Sì Dio anche io ci sento E' da due volte Skyrim E' da due volte Abbassiò il volume di uno Abbassiò il volume di uno Minchia ma vi ricordate Quando Ganon Trilforce aveva appena comprato Skyrim E si è messo a urlare Quello sicuro è un buon video Aiuto Non conosco E' da due volte Shut up Allora dicevo stavo spammando il video Sarebbe E' figa avere più 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 Foso Quindi No dai Da Doom Non dimenticatevi che se siamo su questo carretto adesso è perché l'ha voluto Leo Vero E' importante Sennò come facciamo a saperla loro? Come facciamo a sapere che stiamo giocando Skyrim? Ma io non ho capito Chi di questi tre è Skyrim? Ah cazzo è lui E' Skyrim No no è lui Skyrim E' lui Skyrim perchè usa il pochino No no E' quello di Eteo Non lo vedi? Lo uso il cavallo Cazzo se mi ricordavo il comando lo rendevo più grande Ti cogli Se mi ricordavo com'era il comando lo rendevo più grande Assoluto puffone Ti sei cascato Qualcuno mi cerchi il comando per ingrandire gli animali Iniziamo Skyrim Non era Skyrim vanilla scusa E' Skyrim vanilla però dammi un attimo Increase player size Un attimo solo Un attimo solo E' per motivi comici Era malissimo Player set scale No era set scale forse Basta E' i comandi li ho usati poco io Ah ecco ecco Ok pronte? Set scale 10 No Ah perchè 10 è poco Ho fatto sparire il cocchiera Aspuno un attimo No Credo sia 100 No In genere Oh no Non ce l'abbiamo fatta Fai manco la scema Il caghetto Mi dispiace per tutti quelli che hanno problemi di vomito Che stanno mangiando Porca puttana Questo è Skyrim Stiamo arrivando eh Cazzo sto morendo General Talius Io vorrei vederla tipo Da una telecamera esterna Siamo tipo su un albero adesso Dovremmo essere lì Invece siamo su un albero Porca puttana Aiutamolo No no Te sbaglio il carriaco tipo E finiamo da Anduin Ah non hai capito Finiamo il gioco così Sì No astratto da Skidron Stiamo arrivando eh Funny When I was a boy Questo uomo sta parlando tranquillo Come se non fosse tipo alle giostre Siamo al cavalluccio Ah Però si sta calmando Forse siamo quasi Quanto cazzo dura questa scena Scusate un attimo eh Beh Potremmo non poterci Averci sofflocato Con questa stronzata Dove siamo? Vabbè Tanto Questa scena Ce la Ah non posso caricare Da qui? No ma aspetta Aspetta Magari è solo lenta Non caricavo la parte No credo che questa sia a schermo Penso sia questa Perché siamo soffloccati così Sì ma tanto c'ho il salvataggio pronto A quando devi fare il personaggio Quindi Fantastico Ok quindi Ne è valsa la pena Help No ok Quit main menu Help Ok Madonna Prisoner Adesso ci chiederà Eh Chi cazzo sei? Noi diamo i documenti Alla generalità No Giammi Cosa hai scritto? Cosa ha scritto Giammi? Leo Leo devi leggermi Mamma Cosa No 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 Non va andarlo Cosa ha scritto? Cosa ha scritto? Aspetta Cosa ha scritto? Pov Sei le mutande sburrate in lavatrice Non è da bannare È giusto così Si meriterebbe Io dovo uno strike Non darle uno strike Leo ti tolgo la moderazione Ok Razza Chiedo scusa Scusate Etnia È più corretto Argoniano Qualcuno ha qualcosa da ridire? Non sento No uguale Ok Avrei voluto fare Io sono un Dunmer Fag Si può dire Avrei voluto fare Dunmer Però Sì si può dire Mi sa che non si può dire Su Twitch Però Eh vabbè Sesso Non ci serve Niente Sesso Ancora lo faccio Ancora lo faccio a rossiccio Tant'appena muoio divento Dunmer Un'assoluta un'assoluta unità Un'assoluta unità Dirt Full dirt Dirt color Di che cazzo vuoi Di colore vuoi che sia la dirt Scusate Beh dipende Ci sono Ci sono Per una ragione Quelle cazzo Di triangoli Che Calcano quanto Sillo Chi è Sandy Lomb? E cosa vuole da me? Chi è Sandy Lomb? Cosa vuole? Ok Mi hai detto che vuole Magli Padella Qualcosa Giuliano Padella Comunque gliel'hai accorciato il naso Merda Perché ti rimane Ti rimane cliccato Vedi No sti cazzi Però Giuliano con la J Va bene Giuliano Ci dobbiamo La prima volta che vedo Twitch con la Con la visuale Visuale moderatore E anche l'ultima volta Perché io non scrivo Pensa a fare stacco da ogni anno Tipo Sapere che esiste questa persona Che ha cinque visualizzazioni Che solo per scari In mani Con le tasse Giusto così Non li faccio No 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 Quelli tondi Quelli tondi Sono bellissimi Guarda È intensissimo No Ecco Sì Aspettati che ovviamente Commentando da quello Che vedo Da Twitch Si sentirà tutto In ritardo È bellissimo E poi dicono che Skyrim non è un bel gioco Ci stiamo divertendo E non abbiamo neanche iniziato Si Immagini di giocare a Skyrim Non ironicamente Immagini di giocare a Skyrim Non ironicamente Chiamare il tuo figlio Skyrim I malati Cioè tipo Avere come sopracciglia Del cazzo Di spuntoni Madonna A cazzo Devo fare attenzione A non bestemmiare Ok che non mi banano Perché cazzo Sto streamando Per tipo tre persone Però Sarebbe ideale Eh ma penso che sia Una cosa automatica Ma che fanno Penso che abbiano i bot Per queste cose Per nudità E parolacce E hanno il bot Antibestemia Cazzo Il Vaticano Ha fatto Paglia gigante Il Vati Il VatiBot VatiBot No no Il Come cavolo si chiama Il Cyber Inquisitore Non sono riusciti A impedire a giocare 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 Quello è oltre i limiti Del Cyber Inquisitore Ok Ma non la metto L'erbetta in testa Ninchia Erbetta in testa Sì no Sì sì È stato È caduto Da piccolo È caduto Da piccolo In un albero Dell'East Ma poi ha Un occhio più chiuso E uno più aperto È benissimo È un po' speciale Che sai Il Gornier No Anni e anni Di razzismo Contro i danni Fanno questo Un madre ha fottito Grazie Tieni Grazie Abbiamo ufficialmente Giorgiano A padella Mi piace che guardi alto Per parlarli adesso Mami Follow the cat Oh Cosa cazzo ho preso Sto cercando di riempicciolire Come Ah perché è uno Il Ok Non stupido Ok perfetto Io che dico Alla maestra Che non mi può picchiare Puoi fare il tizio gigante Quando vada Al blocco Sì Ok Spero non rompa niente Lo rompe sicuro Spero non rompa niente Le utile parole famose Adesso la testa Si clippa malissimo Gli sta tagliando il culo Guarda E poi fai il bojo piccolissimo No No Ma da me è una fetta di culo Guarda come l'auto là Uii No No Adesso sta continua Andando a rodolare No Sbaglio Va bene Ah ok Si è aggiornata la testa Mi serve il bojo Mi metti di La testa Mi metti di dimensione Cazzo Stanno diventando tutti lalafel E comunque più alta del generale Nets the leader Uè Con chi ce l'hai Io Io 30 anni dopo Che vado ai colloqui Per picchiare la maestra No Io ho paura che Spero che il modello Non sia lo stesso Ma ho paura che Se andiamo molto avanti nel gioco Ci ritroviamo il generale Che è ancora Ma scorgi Vabbè Si Guarda il bojo E' piccolissima E' mi è riso di me Perché sono piccolo E' un gnomo armato di ascia Ti taglia la franchetta Wow E' iniziato il gioco vero Ragazzi Da adesso in poi Se si muore Si torna Da adesso in poi Skyrim Fatemi alzare Ok Se muoio Da questo momento in poi Devo ricominciare Da questo preciso punto No perché mi si è aperto Ok Fun fact di Skyrim Dell'inizio Io ho scoperto Solo pochi anni fa Anche se il gioco L'ho giocato al day one Che potevi effettivamente Scegliere con chi andare All'inizio Sono sempre andato Con Con L'imperialista Giusto così Cioè io non amo Troppo l'impero Però Christos Sono stupidi Di story Allora Ho deciso che voglio giocare A quella prima Della massima Di master Andiamo Andiamo per Edson Vediamo come Edson Si forse è il caso Al Trentino Non è Ok No 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 Si potrebbe dire Su Twitch No 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 Fanculo Leo Stiamo giocando a master Vediamo quante volte Dovrò rifare il salvataggio Per che ci ho messo Per ora Uccidere un lupo Grazie Si Stupido buffone Comunque Quanti c'eri Quanti c'i credono Minchia Facciamo così gente Per rendere le cose fresche Ogni volta che si muore Si switcha A personaggio Tra questi due Quali due? Tra il Damm Abbiamo il Damm E abbiamo L'Argoniano Ecco Così Così vediamo Chi è la ragazza superiore 3 e 2 Quella che morì Che tà starà Per vedere in terza persona Non potevo Perché è già morto quello Credo sia AFM Al momento non puoi Devevo prima togliere Cile manette Toglimi 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 Ok ragazzi Iniziate a dirmelo Voi per chi ti fate Danmi o Argoniani 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 Giugiano È speciale Giugiano Nel senso sbagliato Del termine Ecco qua Abbiamo vinto Giugiano Giugiano Manto della tempesta Mi sto nascondendo Loro non si aspetteranno mai E uno sta Con il tuo Cargoniano Seduto Stanno cercando Dei prigionieri Stupido They don't know Eh vabbè Mi devo alzare Ci sono solo Due tipi di giocatori Quelli che hanno fatto Questa parte sneak E quelli che mentono No non è vero Ah porco mio Mi ha già trovato Ho già mi estremiato Quasi Cazzo Suga Guarda se sono Gameplay duro Perché cazzo Difficoltà master Ti goda Non è quella master Madonna Più che altro Ti costringe a parare La difficoltà alta Cosa che normalmente Non fa quasi nessuno Però mi rubo il tutto Esatto Voi li starete preoccupando Ma Pasqui Ma stai prendendo Troppa roba Non ci riesco Che pesi troppo Tranquilli C'è un trucchetto Dopo che ci aiuterà Oddio Assurda Dovrei avere QR Sì Ah Vi faccio vedere Una cosa Questa morte Questa morte non vale Se tipo Corri contro un carro Mentre è vicino al muro Muori Perché ti fa il danno O l'hanno fizzata Uccidimi E' solo perché vuoi il danno E' vero No 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 Questa non vale Questa non vale Questa non vale Questa non vale Questa sia una delle molti più onorevoli che abbiamo mai visto Il sacrificio di un uomo Sono queste le proteste dei lavoratori Sono queste le proteste dei lavoratori del settore agrario Dei argolini sfruttati 10 morte all'anno per carretto 10 morti all'anno per carretto Mardetti Quella è la casa dress Sto cercando di fare il più in fretta possibile con queste stronzate di quell'equip Perché non... e perdere tempo Dai Fetcher Dai Fetcher Mi si è buggata la shot da moderatore Cazzo mi serve una scuola C'era una scuola in queste parti Vabbè intanto mi piace una cosa Ho visto dei video di gente che fa questa sezione In del Run No Hit E letteralmente rimangono assoluti Finché Rudolf la renna dal naso rosso non pulisce la stanza Chi è che ha urlato? E perché? Aiuto! Fus! Sussurro dai! Sussurro dai! No non il sussurro dai Comunque io ci sarò per poco che poi dovrò staccare per lavoro Però non è tanto... Io sto rubando patate Ma è già iniziato Perché sei in un tunnel? Più che altro la... La cosa fai... Non ti preoccupare Ma aspetta, questo roll of paper vale 4 Allora perché all'inizio mi servono tutti i soldi possibili Perché devo usare un trucchetto figo Mi servono soldi Mi sto rubando tutto Ma sei su... Allora... Masqui la prostituzione non è un trucchetto figo No! Sì è su Twitch, lo ha passato prima Ok ok Uova No vabbè Hai rubato anche il cesto Non importa Oh! Uova! Hai fatto il furry pasqui Non l'ha fatto il furry Non l'ho scelto io Abbiamo votato Argoniano Per il semplice fatto Ogni volta che muore Ricomincia E switcha tra Danmer e Argoniano Così vediamo chi è la razza superiore Ce l'abbiamo fatta Semimortali adesso Ora che abbiamo uno scudo e una ascia è finita Fuck you Ovviamente si va Arcere Stelte no? Allora mi fa ridere quel meme Perché io ufficialmente non lo faccio quasi mai l'Arcere Stelte Però sappi che per il trucchetto che dobbiamo fare Avremo fin da subito Arcere Altissimo Capilo Nice L'Arcere Stelte è rotto Cioè Must have been the wind Io è tipo la prima build Che avevo fatto su Skyrim L'Arcere Magico Non Magico ma però Arcere Stelte si No io ci vuole come te a magia Io non ho mai fatto il mago su Skyrim Per qualche motivo Io la prima volta che ho giocato Ironicamente ho fatto l'Arcere Stelte Perché ti viene il subito naturale Ti dicono Vedi quel nemico lontano Hai un arco Vedi quella montagna Puoi colpirla con l'arco Toad Dannazione Wow Ai 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 Vedi quel nemico Puoi scavarlo Wow Ai 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 Questo teschio vale 5 mio Lo riesco a visualizzare il Danmery C'è il Danmery l'Argoniano che l'è tipo Uh prezioso Su Skyrim ne vale di meno la pena giocare il mago Però se giochi a Oblivion o Morrowind Non ti prendi almeno un po' di magia Ti stai rovinando l'esperienza Il Pani ha ascoltato e ha giocato a Morrowind E quindi sa la prova Sì Letteralmente la mia unica speranza Nelle pozioni e nell'intelligenza Vabbè sì Quella è la easy modo L'esperienza Ovviamente sto andando così piano Perché è la prima volta Appena incomincio a morire Sono sicuro che Questa parte la rasceremo tantissimo Sì Ma se mori ricominci proprio da Elgen o Devo riniziare dall'attacco del drago Dicevi Giammi? No no Non fai Siamo tutti Di fare così piano la prima volta No puoi dirlo No puoi dirlo Mi sa che lo puoi dirlo No c'entra la chiesa in italiano No c'entra la crisi italiana La chiesa No la chiesa la chiesa Ma si insultiamo la chiesa Puoi dir se c'è prima volta o no Si si iniziano le rivoluzioni Raga Esatto Game X Ma Papa Francesco non era uno di noi Si ha giocato Non aveva ricevuto la coppia di Undertale Però non sappiamo che cosa ne pensa la storia Che sans è ness Ok adesso Ragazzi Ragazzi Wow Era il volto Comunque Ragazzi pronti per vedere la strada segreta? Peso 342 Su 300 E questo non va bene Ma aspetta ho sbagliato Ma cosa se Facessi questo E voi direte Ma Paschi Ma quella roba ti serve La devi vendere Adesso mi porta presso il cadavere Come lo stacco dal muro Un attimo che sei incastrato Vieni Ok In genere uso un luogo Oh Che esperienza Dai Sky È che in genere In genere uso un lupo Non so perché non Perché mi sei disabilitato alla corsa Ah ok Non so perché È tutto impagato Dai Mi servi Ecco il perché Vieni È troppo besante il cadavere adesso Non funziona così il gioco Non è così intelligente Vabbè asco Fanculo Lo faccio dopo quando troviamo il lupo Forse Forse Dei che attraginarlo meglio perché è più piccolo Comunque sì il trucco è che ti prendi un lupo E ci metti tutto sopra E te lo porti fino a Elgander Cioè non a Elgander White rank No non white rank Argoniano Ah quello che c'è l'emotional support goal Sì Hai visto vai l'emotional support goal Ecco che mi si è caricato adesso il video Mi dispiace amici prisionieri Devo trasportare questo peso C'altro è adesso mi immagino un argoniano strabico Con gli occhi a palla Che entra in una città Con un cadavere di lupo Da portato dall'azzarco E' dentro E' dentro il lupo C'è tipo Ci sono altri due lupi dentro il lupo Mi sono dato che mi ha fatto con il tuo buffo Dentro il mio di noi ci sono due lupi Come funziona E' un fertile di lupi Oh no Il tesserato di lupi No pasqui niente inflation No pasqui non inflation Oh no No Che vito? Squid people Squid people Comunque ragazzi Ho appena realizzato che Avendo finito tutte e tre Gli Elder Scrolls Dopo Arena e Darkerfall Io la prima run Ho sempre scelto una razza Che probabilmente avrebbe fatto incazzare a bestia Gli abitanti del posto Perché Morrowind l'ho finito con un Bossmare Oblivion l'ho finito con un Altmare Skyrim l'ho finito con un Argonina Non la prima volta Ma tanto qualsiasi cosa fai su Skyrim fa incazzare la gente Perché sono dei razzisti A meno che non sei uno di loro No perché se sei un Ordo e ti danno del baby latte Ti dicono che non sei veramente uno di loro E ti mandano a fanculo e ti insultano la mano Ma come un Milanese in Calabria Tu basti urlargli più forte addosso E vedi come ti rispondono Come su Morrowind Che su Morrowind Se fai un Dan Comunque ti riempiono Te la meridaccia Capite la mia situazione Io sono arrivata da Oblivion In cui avevo scelto l'Imperiale Quindi Trattata benissimo Ma che bello Ho insomma Inizio a giocare a Morrowind E letteralmente ero triste Trattata benissimo E' un argoniano Beh ti sarebbe dovuto andare peggio Se avessi dovuto fare il Nord E fare il Nord è la scelta sbagliata Obiettivamente Allora non è vero La mia secondaria era su Morrowind Era con un Nord stregone Mi sono divertito Ma su Morrowind Su Morrowind di Nord Erano ancora Chad Avevano i Cleverman Avevano i Maghi Degridici Poi visto che Si sono resi conto Che non avevano Cioè Avevano già La razza Che odiava la magia Con i Redguider Però hanno deciso Che anche i Nord Dovevano essere così Perché era più figlia Più viking Lol Esattamente lo posso Immaginarei Mijingli C'erano stati lì Tipo Yes Ragazzi Questo Esattamente Questo osso Quasi è clipato Col sasso E mi ha spinto E mi ha fatto danno Ma che cazzo Aspettate un attimo Posso usare Una cosa Sto skateando Quest osso Per spostarmi Più veloce Che cazzo hai staiato Da sfidere Ok let's go Let's fucking go Vabbè Mi fa muovere Grazie Arigato Let's go Oh fuck Oh merda Oh cazzo Mega lo Skyrim Oh cazzo Rudolf Rudolf Esegui Procedi Procedi Ma proprio Aspettate come si chiama il Come si chiama il personaggio Giugiano Padella Perché è stato scelto dal popolo Ok Una cosa divertente sarebbe stato chiamarlo Merdaccia E ogni volta che muori togliere una lettera La mia Stiamo facendo la La corsa raziale Aspettate un attimo Ce l'abbiamo fatta Abbiamo Perché non riesco a soldatarlo Ok anche questo Perché pesano così tanti i cadaveri Un tempo Era più facile spostarli No A me è sempre sembrato che siano super pesanti i cadaveri su Skyrim Ma che Io ti giuro Da poco ho giocato a Skyrim E avevo il lupo porta oggetti C'ho messo L'ho ficcato tutto su per il culo E me lo stavo portando appresso fino alla città Io sono a prendermi da Cheesecake E devo sentire i passi che il lupo Gli ho ficcato tutto su per il culo Ma porca figlio Che bello Allora le cose sono due O E ripeto O Ti porti appresso tutto l'inventario O lo fichi dentro un lupo Non è così difficile Che bello effettivamente È come gli spacciatori che si infilano la droga nel culo Mi pare giusto E neanche proprio loro La infilano a dei poveracci Come il lupo Benissimo Se non fosse che rischia di uccidermi A usare questo carro Per cercare di glicciarmi e spararmi Dall'altra parte della stanza Hai delle mod installate o stiamo andando Vanilla Vanilla Oh il tesco vale solo Orestamente Skyrim Vanilla è la vera mod È già così tanto rotto di sua Che le mod rischiano solo di ripararla Skyrim Vanilla è letteralmente Skyrim Vanilla Affrontami orso Non ti temo Rudolf Avanti tu Rudolf 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 Questo si chiami Arif Sto guardando l'acqua E' che perché non ti risponde Tu santi No no adesso si chiama Rudolf Adesso è Rudolf 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 Anzi Sono capace anch'io di urlare Aaaaaaah Vabbè Ciao Skyrim Skyrim non è così forte È solo che L'idea di dover morire Ricominciare Ralof Basqui Chiamalo Ennio Mi piace come tipo Questa parte dovrebbe essere qua Per insegnarti a sneakare Ma quest'orso se non ti avvicini Non ti agra Va bene Skybabies Però ti sei perso la pelle d'orso Cazzo sono soldi ok Eh No 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 Ha ragione Leon Romer Il schermo Tan 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 Ok dove cazzo è Eccolo Pop 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 Aering block Oh fuck La skyblock E' partito velocissimo Tutti i mob Quando vedono che sei sui Dove sta andando? Quando sei in un punto non raggiungibile Quando sei in un punto non raggiungibile I mob tendono a Porco dio Tendono a scappare Di nuovo Per spartare Tutti iımız No 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 Sì Wee Belli Affroaching Smart Team Siamo 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 Molte Eh After Ba Siam grande anche perché probabilmente l'orso oddio se era in letargo c'era già roba infilata su per il culo quindi non devo più camminare a tre chilometri orari morto il pappagallo bot no li ho ripreso così no verissimo io prendevo sempre tutta la roba per sbaglio quando la sistemavano i pauli guardate il peso di quanto ci stiamo liberando mi piace comunque l'idea che hai tipo spellato l'orso e comunque li hai rimettando sulla pelle dopo e malvagia come con lo scopo di filo appena sopra il culo non deve farmi ridere però abbastanza in alto sembra vivo ancora il conteniamo non è scudo e d'ascia era andruido questa bella necromante bella necremano sia legale sì ma il sito del cairo abbiamo fatto finta di non vado da nessuna parte senza bobo ci tengo tutte le cose dentro ma come lo porti fuori adesso raccogli tutto e poi esce c'è la scritta tu skyrim non mi fa interagire con adesso siamo di nuovo ok il primo domanda latenza il primo lupo che troviamo gli fichiamo tutto il lupo che stai camminando tra un quilo alla foresta un agoniano con un alzaino un quilo di roba si avvicina piacciosamente questo non c'era survival has the need to eat sleep and stay warm adesso ad additional challenge no fast travel, reduce care weight and leveling up mincia minecraft non lo so raga ma che cazzo mai vista sta roba vabbè che figata perché tutta sta storia di usare il lupo come boss mi e mi fa pensare molto a bistars no no di che senso bellina la nuova stocchione what is this mickey mouse bullshit i see before my very eyes ma si può usare tutto dentro rudolf questo che è grande no ma è gigante wow purtroppo è un npc purtroppo è un npc che non si può uccidere altrimenti non ci vuole essere stato lui da bordo no luca timbro no non era senso che bellino vuoi controllare che il suo mini amico si è ancora vivo ma tu sei un minacro o il suicidio beh tu sei s... non lo so metti che durante l'estate salvi un gecko no e scordare ogni tutto di volte ma probabilmente di questa cosa vi voglio dare una piccola una piccola appunto che non pensavo fosse vera invece è vera appunto? un coniglio è finita no vieni devi trasportare la mia roba no 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 non stoprare il coniglio l'hai preso no ci prego tararararara tarararara lascia stare il coniglio no no adesso questa è la bocca entri in un negozio e su er tu il fucking god pass qui entri in un negozio poggi il coniglio sul tavolo dici che contiene 9 spade 10 armature e fa la tremendo cosa ho appena visto fatti sollevare perchè non me lo fa sollevare ho sollevato orsi perchè non posso sollevare un coniglio bravo Todd bravo ma ti immagini se veramente hanno fatto quella cosa che ti dicevo che cosa che pesa troppo perchè il coniglio no perchè ho sollevato l'orso prima fatti sollevare coniglio cazzo non dimmi che devo davvero trovare un lupo mi spiace pass qui devi trovare un lupo eh vabbè mi immagino c'è ralo ralo che vede ogni tanto lui che tira fuori tutte le cose e li infine in un animale a caso e poi li tira di nuovo fuori e continua per la sua strada hai boribotta qualcosa come gli sai fare un lupo poi gli animali utilizzati li rimette tipo dritti in modo molto curato cazzo una tradizione antoniana che parla è perchè ogni tanto i cadaveri si pripano col terreno e non c'ho i tumuli quindi non posso urlarli ad oso addosso ma non in maniera efficace ragazzi non bevete netta e di east e guidate peggio eroe della mia vita non fatelo nell'ottobre dell'83 per favore il personaggio di paschi faceva cose inarrabili al coniglio c'era dietro questa persona no lo guardavamo appena sentiamo un'ululata è finita per l'arco per sicurezza no vincere i primini di guerra a no è vero il lupo di vanno attaccare una passaggiata questa è una randito qui messo aspettando questa non è una run questa è una vera ti banno che nick 6 smette la stia bruciando dei tuoi poteri sto facendo niente se lo merita che dovresti leggere lasciate non c'è nessuno sta parlando ottimo non vedo l'ora di morire cadendo da quest'altezza speranate oh la nessuno sta parlando è che scrivo la parola con la n è un nice walkthrough che va a me si fa sto parlando ok ok aaaaaaaaaaaa baynami minecraft oh muschio Allora, the tipstone The rage stone The warrior stone The warrior stone Ma voi siete Sono io indietro di un bel po' No, è normale No, no, perché mi ricordo che l'avevo ben detto io Che c'era il delay di qualche secondo Ma questo mi sembrava di 15 secondi No, no, così sei tu indietro Ci dovrebbe essere un branco di lupi Che spawna qua Cioè in ogni cazzo di run Sì Per carrying two macho and be able to run È così avere 50 anni Sì È per questo che la gente non può rirlo Nella giornata comunque Skyrim è davvero Bel gioco Per soli 20 Per soli 20 euro Potete aggiornare il vostro Skyrim Special Edition In Skyrim Anniversary Edition Pensate un po' Sì, è vero Però pensate La possibilità di pescai Pescai È finita Una volpe Però Però a poca vita Smettere di violentare ogni ciclo Non sto violentando niente Dov'è? Dov'è? Chi è riuscita ora? Sì, siamo in un club di chess No, è andato in acqua per scappare È risaputo Sapeva che affogare se avrebbe stato un fatto Mi piace che ti fosse Non lo sapeva che affogare se avrebbe stato un fatto più gentile Ma Sì Appunto Mi sa che ho visto il cadavere sulla cascata Ma Chi è questo tizio? Cos'è successo? È una volpe Chi è questo tizio? È una chiesa testale Ma chi cazzo sei? Ma la volpe è la mia amica Ma da dove cazzo è uscito? È un uomo che mi ha riuscito di vedere le due stranzate con gli animali Esatto Il petto è letteralmente un agente della forestale che vuole fermare un cazzo di maniaco Che vuole entrare tutta la foto Ce l'abbiamo fatta È lui Buoy Ma qua c'è il prea di metterli Aspetta proprio qui Prea di metterli Eccolo qua È il prescelto Ma è il prescelto È finita È vero che l'abbiamo buona È risorto come forza Bisogna fare di ogni occasione un'opportunità O come cazzo si dice? I'm sorry little one In vacanza con il morto Eh minchia Todd voglio dire sì sono a Vex Roy anche io Oh perfetto non preso niente Vieni con me Del peso c'è C'è il peso di trattati Io ti consiglio di lanciarlo tipo invece di fare così Falleggiano tipo calcio Ah laggiù ci sono il gruppo Però adesso voglio cercare su internet quanto pesano in media gli agenti forestali Perché come può essere più pesante? Non penso che sia una ricerca che tu dovresti fare su Google Comunque Ehi Google quanto pesa una gente forestale? Chi è dove o me In media Lupo Guarda che potevi essere tu questo Intimidazione verso il gruppo Lo so violenza su animali è imbarbabile No Non sei in un videogioco Se dici voglio uccidere un cane è violenza Se dici voglio uccidere un cane è su Minecraft Eh carai l'hai detto Ma ho detto su Minecraft A meno che non sei Ho detto su Minecraft Come si chiama quella? A limiti Ma chi Non lo so Non so chi cazzo sia questa persona L'abbiamo livellato Bosto che c'è una tizia che ha pestato il gatto No Brutto Dove cazzo è parata? No è su speech È su one handed One handed lo livelliamo stanotte Adesso no È vero Niente mod Ma la moda delle tettone va messa Allora tranquilli Comunque che tipo Sexy Argonia Queste stronzate Tipo raccogliere tutto Non le faremo poi È solo per la prima parte Perché mi sembrano i soldi È l'astergonian made mod Mi piace che sembra che ce l'ho in spalla adesso Guarda come scodinzo Il tuo vettore È molto contento È molto contento Di quei feccati Oh mio dio È l'algoniano meno violenta E vuol dire tutto Ma non mancherà molto la città Cioè io non voglio sapere Da che tribù è uscito questo Io voglio saperlo Cioè Gli alberi dell'East Saranno tipo Oh no Questo qua Ha venuto troppo netta È uscito È uscito strano È caduto nel canterone da piccolo Come è Alla Alla Petizione No Petizione Nell'altro da piccolo Petizione per tipo rinominare il bandito Come si chiama? Non importa cosa Zaino 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 Ha provato a mancare L'algoniano sbagliato Rimani di essere i tizi del villaggio Che devono vedere Questo E poi No Di essere Sbagliato Perché qualsiasi argoniano L'algoniano sbagliato Ha provato a mancare L'algoniano peggiore Sbagliato allora Se fai troppo veloce Destra-sinistra Ti toglie Devi farlo un po' più piano Come si è sembra una persona bella Sta camminando con te Si fa questo Non è un compagno Schering shit Come prendere un compagno early Brock Non raccogliere tutto Perché pesa Walk Chi la è tutto nel culo di un bandito E se ha tolita il cadavere Buongiorno signora Buongiorno signora Buongiorno signora Buongiorno signora Aspettami sul carro Ok Aspettami sul carro Devo andare a vendere Pensi mai cavoli No my cabbages My cabbages Signori non vi preoccupate A volte lo fa Buongiorno È ora di vendere No my cabbages E la gamers Ok buono Ha abbastanza soldi Sembra questo Puzzano un po' Tutte queste cose che ti sto vendendo Però ne vale la pena Non fai domande Merda e sangue Sono stati dentro Multiplicuri Aspettate un secondo Io non ho l'anniversario Questa non si vende Io non ho l'anniversario Perché cazzo Ho una fishing road Nell'inventario Ma questa è una benedizione Da Todd Aspettate un secondo Sono serio Io non ho l'anniversario Scusami Non ci sono le fishing road In vanilla Che magari le puoi solo vendere No No ma hai visto neanche io Secondo me magari è tipo Perché oggi è il Scusa che L'anniversario No doveva Doveva uscire oggi Però non l'ho comprata Non ti è Magari Deve essersi baggata Oppure hai una mod vecchia Che ti sei dimenticato Non ho mod Ti giuro Non ho mod La maglia del Natale Beh allora direi Che questa è una run In cui si pesca Ho mancato la bambina Bravo Todd Non riesco a ingrandirla Fonculo Vabbè No mi sa che i bambini Non li potevi toccare Sai Ah è perché sto sbagliando Comando Perché avevo scritto Set speed Oh no Che frase Che frase interessante Da lì Ok aspetta è troppo È troppo veloce Set speed 10 Set speed Sonic Ok Tu stai buono qua No papà Non voglio lavorare Da black Sede Sede Sonic Eccolo È lui È proprio lui Bello Culliver È Zaino Tuesday Grazie Dammi tutte le tue cose Tu sei questo eco Potentissimo Fugue A Dragon A Dragon Fugue Sun Sì? Si sente tipo tantissimo eco Un rumore di fondo Mi starete chiedendo Ma Pasqua Cosa ti sanno Tutti questi soldi C'è uno specifico NPC in questa città Che ci interessa Dobbiamo trovarlo È un elfo Quale L'elmo L'elmo La lettera La tipa Mi sa Vecchia Ah ok Il trucchetto Della ricceria Con lui Sì Praticamente Ah sì che lo pickpocketti subito No no non lo pickpocketti Siccome ho un tuo compagno Letteramente ti riprendi i soldi È tipo Ti do 50 euro Se mi insegno a giocare con l'arco Ok Ora ridami i soldi Ah dead body Ok Eccolo Welcome back Sono Michele Conosciuto Anche Come Microsoft Word 1916 Su web Su web Su web Me l'hai detto Ok perfetto Andiamo a rovinare la vita di Sven Dando la lettera con su scritto Khpp Oddio alla ragazza che gli piace Ho qua una lettera da parte di Sven Ma è il giorno più bello Della Dove cazzo è Adesso ho posto il link Della stream Eccola qui Finirà malissimo Wow Dov'è quella Dov'è quella Dov'è quella Signora Dov'è la tizio Mike no Dov'è la tizio che vende robe Dovrebbe essere qui forse Si I have a letter for you Hol'è Sven Eh What's this If that O thinks All I'm going to do is You can tell Sven That he already has a mother I'm not speaking to him Lol Da quello che ha detto Probabilmente nella lettera Sì è scritto Mommy sorry Mommy sorry Mommy Sorry Ma aspetta Voglio Voglio tornare Non si capisce niente Potete evitare di evocare i demoni per favore Devo adesso raccontare un principe daedrico davanti Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo fatta No 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 Ecco Pronti Can you train me to do better ad archery Grazie frari Ti ricordi i soldi che ti ho dato per allenarmi e essere meglio con l'arco Non è che me li puoi ridare Grazie Zio mi puoi insegnare No Non ti ho detto Feindal Collabora Follow me Perfetto Adesso noi ci riprendiamo i soldi di nuovo E la prossima volta che livelliamo ci prendiamo altri tre livelli No Perché no Odio il menu radiale di sto gioco così tanto Ridammi Quanto è bello che sei proprio a scudo e praticamente a martello Grazie per avermi insegnato il mentire dell'arteria Che cosa? Chi ha detto cam? Fugue Io ho detto cam 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 No Smooth Comunque Leo non so se hai notato il tuo nuovo nome Sì grazie Ho notato anche che mi è stato tolto n-word sentimentali Però non l'ho fatto io Io ci sei vicenda Dato il nome nuovo Ragazzi io mi ha detto sbulle Ragazzi ce l'abbiamo fatta Siamo liberi ed aldo Per trasportare un cadavere pieno di Pronti a morire e rifare tutto di nuovo Sì La ronda è rosa Vai nella caverna con i Con i ragni Andiamo Minchia ma già non è fa suono questa cosa Più mi ha detto C'è il punto è che io non ce l'ho quel DLC Tu prova a pescare Ah non ce l'avevo io Ce l'aveva il negoziante Vabbè dopo compriamo una canna da pesco Let's go Seuss Seuss Doctor Seuss Un cervo Nuova boy Vieni qui È andato sott'acqua ok No È tornato lo stuporatore seriale No no ragazzi Non Mettere Una flock di animali che scappa dalla foresta E poi si punta l'argoniano E poi è del teatro di fallout E poi è del teatro di fallout Che gli animali che sono amici E ti aiutano Questo è l'opposto Gli animali sono fottutamente Per il fatto che Hai saputo che Gli infili cosa Non è per trasportarle più facilmente Questa non aiuta Questa non aiuta per niente Non vedo l'ora Non vedo l'ora Che ore c'è Non vedo l'ora Quando arriva Whiterun però Nella stanza di Arler Devi 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 spawnare mille cheese wheel No 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 Niente Che ha detto bossetti Vi vede è arrivato su Skyrim Cosa? Bossetti è arrivato su Skyrim Bossetti è arrivato su Skyrim E intanto il Toadbot risponde Skyrim Toad sa Toad sa di boss Cosa stai facendo Pasqui non lo fare? Aiutando Non lo fare? Papi no Pasqui non sei nemmeno arrivato a Whiterun Per favore No 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 è tutto a posto Non è tutto a posto Non è tutto a posto Questa non si gira Ragazzi questo non si gira Non colpisce a noi Vedi? Ma che bravo Che sei stato Ci hai aiutato Eccoti una cagamella Adesso ruba tutto almeno Tu under yourself well Questa tizia qua È il nuovo Fendal Quando abbiamo finito con Fendal Perché anche lei insegna Ma lo insegna dopo Sì sì è vero vero Ma scusami Vuoi prenderla così in fretta? No devi entrare nei compagni Ah ok Adesso che siamo saliti di livello Caro amico Fendal Mi insegni l'arceria Ah non ho soldi Non è che mi fai un prestito Caro amico Fendal Spai che Questo menu è odioso Fium ha detto Usa il gigante come borsa È un po' pesante Troppo roba Un appartamento E ci entri anche te No Per tenerti caldo No no è il canon viaggio Per andare dai Dai tizi nella montagna Raga letteralmente Non abbiamo ancora toccato Un cazzo di arco Ho 25 in arceria Hai ascoltato benissimo Come la cliente ti ha descritto Come hai fatto un arco E adesso sei bravo A volte è proprio così Fium ha detto Gerbilling nel mio Skyrim Nooo Davanti alla mia insalata Poi decidiamo dove andare Poi decidiamo dove andare È tipo le vecchie serie Dove puoi premere i tasti nel telecomando Per decidere Poi decidiamo In che direzione Minchia via telefono Dopo decidiamo dove andare Comunque 8 spettatori come prima live Sfondiamo E non siamo assolutamente noi 8 Guarda questo stronzo Ragone ognuno si crei un'altra Nooo Così si In 16 spettatori Siamo a 16 Sfondiamo Sfondiamo Oh no le big guard Io la big guard Io non vedo l'ora che dicano Esatto Non vedo l'ora che dicano questo Io invece non vedo l'ora che dicano la frase dello sweetroll E comunque a me le compagnie che non sfruttano i meme mi fanno incazzare Ragà ragà Speedrun Cos'hai Che hai detto? Io? Sì? No Non ho sentito Le compagnie che non sfruttano i meme mi fanno incazzare come le iene Perché tipo immaginati quanti avrebbero comprato al tempo Perché mo non fa più ridere Ma al tempo avrebbero comprato un mini DLC con la storia della guardia e la freccia nel ginocchio Vabbè ma ne hanno fatto battute Ah in quel senso Io pensavo che parlassi Pensavo che parlassi tipo dei brand che fanno i post simpatichini per gli zoomer Che vuoi unire In quel caso Sì In quel caso Ma in generale i best In caso io sono lì Per il prefavore bruciateli No 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 Silenzio Super Silenzio Il punto che non ci serve per molto da dire Sulla freccia nel ginocchio perché vuol dire sposarsi Sì La parola di freccia nel ginocchio mi sto pisciando Hai portato la bottiglietta fattica da streamer Secondo te come fanno a fare le venti Secondo te Chiedono ai moderati Secondo te è bravo No 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 È tipo la puntata di South Park di World of Warcraft No ragazzi facciamo soldi così Facciamo soldi con bottiglie ufficiali per i streamer di Twitch per il piscio I cateteri ufficiali da gamer Che fai parlare con il tizio I rileggere I cateteri I cateteri con Della Mountain Dew Tipo No cateteri ammessari Speedrun parlare Quello era quello di essere un gamer Senza un cateter No Come pensavo Un cateter è molto lungo con scritto Danger Zone È un lalafel Il cateter è RGB Io pensavo più a gamer No no Il cateter è con La busta sotto Che cambia colore Come le tastiere L'RG No Si E poi c'è I poveracci Che non si possono permettere L'RGB Che si fanno venire infezioni Alle vie urinarie Per poter avere anche loro i colori Aspetta come Aspetta un problema Se io piscio sangue Come faccio a capire Se è l'effetto Non puoi È il rischio Da gamer Il gamer vivo non è rischio Ogni giorno Tutto ciò è relato a Scamero A parte che se sei un gamer Sai benissimo Che con la tua dieta A base di Mountain Dew Adesso è Energy Drink Dovresti pisciare sangue Assurdo Cioè non è più sangue da pisciare Pisci zucchero direttamente A me ha sempre fatto ridere L'assoluto mento Che ha quest'uomo Assolutamente Si Studiare la magia Ti fa venire il mento così Bene Spacchiamo il video Immaginarti dare un pugno Un pugno Urlando pugno magico Ma non è magico Mago Come scrivi Lo sicuro è che quel mago Sarebbe molto offeso Cioè più nello spirito Che nel corpo Allora Anzitutto siamo arrivati a White Run Vabbè Non è piaciuto Avete presente Avete presente Che tipo La gente per speedrun Prima va A prendere il sasso magico E poi va qua No Praticamente è là Siccome il tempio Dove prendi la roccia Che ti ha appena accosto È letteralmente A fianco All'uscita Della città Dov'eri La gente direttamente Nelle speedrun Va lì Prima di andare qua Quando deve fare le cose Se c'è una speedrun vera Non è mai uscita da lì Vede già Uccidere Alduin Con uno stecchino Sì Ed è molto divertente Perché è lì Tipo Sì Mi serve che ti procuri Questo oggetto Ah Intendi Di questo oggetto Questo oggetto Io Adoro le speedrun Quei glitch Raga Le adoro Sì Tipo a me fa impazzire Quella di Wind Waker Allora Con la camera da pesca Velocissima Ah no Quella ero carina C'era una cosa Twilight Princess È quello che glitchava Con la camera da pesca Ricordi Ragazzi Vi faccio vedere Un altro exploit Che però non farò Perché per farlo Serve tipo 20 minuti Beh Aspera un attimo Sto caricando No no Nel senso Beh qual è il problema No Primo step Avere Trap soul Secondo Strap Attivare The mage stone Terzo step Ci serve un altro Calavere Oh no No A me fa ridere Che quando l'hai detto Ti sei girato C'era il companion Si serve un altro Che adammere Scappa Devi firmarlo Sto già Sto già Sto già Sto già Sto già Sto già Beh Switch 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 Ok E adesso Sei parlando L'inizio Della Lissime avventure Giugiano Giugiano Oh c'è un animale Lì Ma L'emotional support goal Per gli animali Vero Dov'è finito Riesco a sentire il suo odore Ma non lo vedo Mi serve un lupo Ma guarda C'è un animale Vabbè Dov'è Dov'è E questa l'esperienza Che Todd aveva in mente Dov'è Fai Dov'è Ma siamo ritornati Aspetta Raga Raga Siamo tornati alla città No Non mi serve più un animale C'è il cadavere Che avevo lasciato prima È vero C'è ancora Sei sicuro È sul carretto Sicuro 100% Ok ma Mauri mi senti Mauri è andato via Mauri è scappato Ecco qua Mauri si vergogna Ok ragazzi Aspetta Li volevo spiegare La log Non toccano niente Beh gliela puoi spiegare Sta sulla stream Teoricamente Ora vi spiego l'exploit Ora che ho Soul Trap e un cadavere Io uso Soul Trap sul cadavere Poi aspetto un'ora Soul Trap sul cadavere Aspetto un'ora Soul Trap sul cadavere Aspetta Livello Così posso fare Altri livelli Con Fahendal Con l'arceria Non mi costano i soldi Porca puttata No 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 Follow me Odio questi menu Lo so Tremendo Ok No tremi Tu devi abbederarci Give me What do you want me to care No Non mi Non mi Non mi Non mi Non mi Non mi Ma perché la bocca aperta No fuck Gli ho preso le frecce per sbaglio Come fai a farla così tanto a fianca Tieni le tue cazze Mi spece I'll show you what I know E niente raga Vorrei ricordarvi che noi non abbiamo ancora combattuto un cazzo Ecco un'ultima volta Working as intended Bravo Toad Ok Bisognerebbe Installare sul Toadbot Un robot di riconoscimento vocale Così ogni volta che viene anche detto in voice chat Skyrim o Toad compare Beh sì Allora Questa Mi riempio è malissimo Allora È una È una stream istruttiva Io questa cosa l'ho fatta Per farvela vedere E insegnarvela No Adesso ritorniamo ai sassi Che sono tra l'altro più vicini a dove dobbiamo andare Rimettiamo quello del warrior Che mi piace di più E continuiamo Adesso sapete una cosa in più Sapete che sei soul trap E metti la mage stone Ti casti soul trap su un cadavere Premi T per aspettare un'ora Ripeti all'infinito E diventi Puoi arrivare a congiurazione 100 in 0 secondi Adesso questo tizio mi dirà Io non mi piace che stiamo usando una magia E io gli dico Poba Esatto Arrestami Arrestami Ah no però questa c'è ragione Scusa Non Aveva ragione Ok torniamo ai sassi Perché il posto che dobbiamo raggiungere è qui La gente esce dalla città Vai ai sassi Prendi il sasso E va lì per prendere subito Il super sasso Ok Il sassone Sì esatto amici Questo è proprio il rilevamento medio della facoltà di geologia di Cagliari Che super sasso Ambientato a sassari Ah battuta Vile Io di nuovo ho preso che sbagliate le frecce Che peggio? Un verino Questo uomo è senza frecce Mi piace agli le frecce porco Dio Cioè quest'uomo è senza figa Ancora queste bestemmie Avevo già bestemmiata anch'io Basta Ci stai Alla Puoi provare quanto vuoi a non bestemmiare Però eventualmente bestemmi Non è colpa nostra Quindi a sto punto tanto vale fare Tanto è così impossibile finire la vita senza una singola bestemmia Quindi tanto vale fare l'hiscore No però no Più che altro Cioè le confessioni ci stanno per questo Ok ce l'abbiamo fatta Abbiamo un sacco di arceria Abbiamo un sacco di punti che si possono distribuire Cioè ragazzi siamo Siamo a posto Abbiamo anche un sacco di frecce rubate all'elfo Un sacco di frecce rubate all'elfo Ok si va L'avventura è iniziata adesso In realtà peggio di Sabaku che bestemmia non si può raggiungere se non hanno bannato lui Vabbè mischino Era per colpa degli archivi No 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 Ma erano meritatissime Dio Ragazzi la cosa più pericolosa Che puoi fare in Skyrim È toccare questo tipo di cascatine di merda Perché ti sciocca Ok Agba Wow La natura No a te non ti faccio niente per adesso Ma che c***o Guarda che non è docile Per adesso Sa che se ti attacca non c'è possibilità di salvezza Però chiedo usarlo come una bisaccia Comunque Comunque Findale è davvero un boss meri di merda È lì che simpa per un'umana Si mangia la verdure Vergogna su di lui Cringe Immagina non seguire il patto verde Cringe Cringe Che stavi dicendo? Chi hai? Io ero in silenzio No no sono io che ho Stavo iniziando a dire qualcosa ma Ti giuro Sembra la presa Mi sono fattato Sono dei banditi qua credo Back off Puoi giocare una da due Ma tu da dove c***o sei uscito? Maffanculo Tempo di commettere crimini di smizzie Non ho più frecce Non mi fai un p***o Non so Non puoi aiutarti Gli hai fatto tutte le frecce No 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 Gli hanno dato una prima Ah ok La riciclerà Fa tipo Quel tizio degli Avengers Infinity Bow Enchant Un vero denaro Fa Endal che va da Hilde a chiedere E' caduto giù Fa Endal No non squinerare Noi siamo in ritardo No No l'ho visto Comunque dicevi Chiari Fa Endal che va a chiedere Se puoi mettere il letto di Minecraft Accanto a quello della tizia Scherzo ovviamente A meno che Come c***o blocco così basso? I fought worse than you Beh Fuck you Questa è l'unica risposta Oh quest'armora è meglio Comunque questo tizio era il signor Skyrim Era vestito da Skyrim Era lui Era proprio lui E già abbiamo ucciso Skyrim E' caduto prima E' caduto prima E' rimasto Vorrei invitarvi a notare che questa dovrebbe essere la seconda difficoltà più difficile Non abusarne No 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 non ne abuso Però mi fa ridere Che tipo c'è una differenza così alta Sì vabbè ma ti stai Ma perché No 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 Già a me Già a me Già a me Non si dice Pari diritti In prima serata Pari diritti Rispetto Pari diritti Pari opportunità Pari mazzate No Ah vabbè sì No ha ragione Sarebbe sessista Di contrario No no C'ha ragione Bene ragazzi In tempo di combattere il sessismo Andiamo a picchiare qualche donna No no E' vero Non picchiare E' vero Perché Picchiare Picchiare le donne Alla pari degli uomini Va bene Ecco sei uomini Maschi Cis etero Si picchi tutti Ne parlano Dov'è fa Endal Mi manca Aspetterò un'ora qui Addio muffa Ricordati Se Se Ricordatevi sempre Se picchiato Non siete forti Siete fortissimi No Allora È tipo la prima È la prima stream Seudo decente Che faccio Abbiamo avuto Bestemmie Discussione Di picchiare Va dentro il culo Di animale Sessismo Io vorrei Fare il moderatore Un attimo E dire Ufficialmente Il canale Di Il canale è morto Come si chiama Ognunomeletto Si Distanzio Ufficialmente Da queste uscite No 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 Siamo molto tristi Noi non rappresentiamo Questo E vogliamo essere migliori Per tutti quanti Rappresentiamo Az Io mi rappresento Benissimo Da solo Sono tinne No Carissimi Quello no Allora Proviamo a non dire La n parola Quella per favore Oggi no Nord L'amor del cielo Non dite nuoro No Nuoro Ciò l'errore Della mia vita Carissimi agenti Federali Ogni mio post È serio È solo una minaccia Per questa società Mi arriva un messaggio Su whatsapp Lo sappiamo Lì rispondo con l'emoji Che fa l'occhialino Ragazzi ce l'abbiamo fatta Abbiamo spulciato Su whatsapp Che dice Fra Mood Ragazzi abbiamo spulciato Tutta la luceria Che potevamo ottenere Da Fahendal Fahendal è ora Una persona normale Adesso uccidilo No Ok non rispetta Il patto verde Ma neanch'io Cosa direte Il patto verde Mangialo Uccidilo e mangialo No Fahendal è un amico Il patto verde È di non mangiare Qualcuno deve rispettare Il patto verde Vi spiego Leo Gli elfi Sono Almeno gli elfi boschi Sono così Vegetari Cioè Sono così Amanti dei vegetali Che non ne mangiano Mangiano solo Carne Ah wow E quando uccidono qualcosa Quando uccidono qualcosa Devono mangiare Non esiste Lasciare l'olio E spreco Allora sei proprio Il compagno ideale Per lui Ma perché Questa argonia Non ha ancora Muori Aspetta Non ha ancora Sviluppato fetiche No ragazzi Non ha ancora Fatto un problema Niente Shut the fuck up Con questi Jummi Peticamente Fungia così Per il patto Che hanno fatto Perlomeno a Valenwood Dove gli alberi Sono letteralmente Magici Senzienti E sono il vascello Atreverso cui Comunica un dio Loro si ammazzano qualcosa Lo devono mangiare Entra tre giorni Perché è uno spreco di cibo Altrimenti E' il patto Che hanno fatto Ionicamente Ionicamente Il crimine Ionicamente Il crimine A Valenwood E' molto poco comune Perché Perché pochi Bosmeri Sono gli tipo No che palle Non solo Se ammazzo qualcuno Mi becco La responsabilità Del fatto Che legalmente Non posso farlo Ma se non mi mangio Il cadavere Vengo maledetto Perché letteralmente Gli spiriti di Valenwood Se vedono un bosmeri Che non rispetta Il patto Sono gli tipo Ah si bene Ti trasformiamo In letteralmente Melma Aspetta Scusami un attimo Intendi Qualsiasi tipo Di cadavere Qualsiasi Qualsiasi Anche di un altro Bosmeri Anche io Sono cannibali Ma non lo sono Per Heights Dici Perché Per questo patto E' assoluto Questo patto Magicamente Vale soltanto A Valenwood Però Molti Lo continuano A tenere Per una questione Religiosa Anche fuori Ad esempio Io su Morrowind Ho giocato Un bosmeri Che faceva Alchimia Ma la faceva Soltanto Con ingredienti Di natura organica Madonna E' un roleplaying Di alto livello Complimenti Madonna Quanto è difficile Questo gioco Ragazzi Lo so già Che mi pentirò Di questa frase Infatti sarebbe figo Fare una One shot Su skyrim E' simile A su pathfinder C'è direttamente Il C'è L'ho anche Non c'è Il pdf Non sarebbe male Provare Io lo per Fail Divertente Sarebbe divertente Anche perché Secondo me È abbastanza sempli Basta che possiamo Usare gli animali Come borsa Io faccio il red guard Per avere Quel pass È un incantesimo Allora Il mio personaggio Sarà Giugiano Padella È l'incantesimo Di Giugiano Giugiano bug of wonders Giugiano può castare Arriva Sugli altri No Il target deve essere Arriva Puoi farlo sui non morti Arriva il giorno Della Della one shot Arriviamo tutti Che abbiamo portato Giugiano No Comunque Leo per proseguire La parte divertente Di quell'arian Di morrowind È stato il finale Perché Alla fine Avevo pompato Quasi al massimo Lancia Che appunto Su morrowind Ci sono le lance Gli avevo messo Encanting Gli avevo fatto fare Un casino Di lance incantate E gli avevo segnate Praticamente ognuna Ne avevo sei Ne avevo segnate Ognuna È un tasto diverso E continuava ad alternare Perché ognuna Aveva un effetto diverso Quindi devi immaginarti Questo assoluto Questo assoluto Elfo cocainomane Pieno di Di pozioni Fatte con la carne Che continua ad alternare Sei lance Wow Sto Sto usando Di questo tizio Expando block È tremendo Perché mi manchino Che le sue pozioni Assomigliasse molto A dell'omogenizzato Oh no Oh no Pasqui comunque Anche se tu blocchi Non c'è il rischio Che critino No Se blocchi Non c'è la possibilità Che critino Almeno finché Non l'hai detto No Il gioco adesso Se l'ha ricordato Esatto Cazzo vero Toda ha sentito Adesso partirà il critico Così potente Che ti uccide il personaggio Sul colpo E ti installa Skyrim E ti consiglio A ricomprarlo Esatto Facciamo la run Che dobbiamo ricomprare Skyrim No Ma oggi sono Ma in più oggi Sono proprio dieci anni Ehm Undici mi sembra Avrebbe stato meglio L'anno prossimo Così sono undici anni Dopo l'undici novembre 2011 Sa che era questo No è il decimo No è uscito nel pubblicismo Era undici 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 Quindi E' nel 2022 Che ci sarà il Undicesimo Donna Dieci anni C'ho sto gioco Che ansia E se li regge tutti Non li reggeva neanche Quando era appena uscito Pasqui What the fuck E' un gioco nato vecchio Ma che Per qualche motivo Funziona Non sono sponsorizzato Dalla Bethesda Ma se la Bethesda Interessi Ma Io Ma se Il signor Bethesda Mi sta sentendo Mi ha sbaglio E' dato un colpo di mazza Sul cazzo Fender Ups Ce lo merita Allora Praticamente Per i boss Ma rifunge così E' soltanto la roba Che fanno loro Che deve seguire Il patto verde Infatti Per costruirsi le case Lo accittano E letteralmente Pagano Gente che non è boss Ma Per tagliare il legno E fargli le case Wow Altrimenti Devono mangiarsi Il legno No no Non è che si deve mangiare Il legno Che loro Dal legno Se dal legno Una pianta Vengono maledetti Se non mangiano Un cadavere Che hanno ucciso Vengono maledetti Il problema Di questo ragno Il problema di questo ragno È che c'è un veleno Molto potente Mi sa che va oltre il blocco Ho paura perché Questo me lo ricordo Deve la difficoltà Questo ragno Potrebbe farci cambiare Il personaggio Quindi dobbiamo essere cauti Sì è vero Ah che schifo Ma perché non un garcere Scusa Se Non fa più danni Sì Perché ce l'ho L'ho isolato molto Ma No È un po' facile No Tutti lo fanno Io non Da gacotoro Ecco qua Di stai La puoi fare Do io Ma poi lo usiamo Come borsa Sto ragno No 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 Ci siamo Ciao Ciao C'ha otto zampe Quindi le puoi mettere insieme Guardiamo se è facile Sollevarla No Ga 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 Si è un pezzo di merda Appena lo liberi Scappa Quindi ti ammazza direttamente Eh Quello che Prima Prima mi era sottotto Inter T'avevo detto Stiamo andati Stiamo andando a salvare Patches Cosa 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 Kill urg Si è visto L'abbiamo L'abbiamo Scala fatto è frizzato a lalla il braccio che stava fattando il culo per tre secondi in crimson ragazzi ma come fa sky ma essere reale devo imparare a bloccare meglio l'altro costava 30 oddio questi menù tantissimo si sono insopportabili un po meglio il controller si appunto come tutto quanto dopo moro wind che è stato fatto per i conti o lei incomincio a sentire molti applicatori di danno della difficoltà ragazzi per si provare a fare l'ascere ciao ciao hai scato mai pantaloons per fortuna fine per fortuna fine dal è qua per aiutarci con il singolo coltellino effettivamente mi hanno fatto notare che questo singolo coltellino è una merda ti darò di meglio spesso un attimo allora vediamo un po' steal war hats give vai ah no ce l'hai già fatto fotti ti ridammi ok non ci vado let's off no finchia find out come un ascia agitatissimo c'è una trappola qua questa poteva finirla alla rai ahia si no no poi non puoi saltare sopra la trappola voglio vederla prendere da fendal nooo muoio posso però lascia fare fendal aspetta i need you to do something no no allora prima salvo perchè se muoio io non va bene ma se muoio fendal va bellissimo questo che ha da avere qua voglio che esamini aspetta come cazzo hai fatto a passare è molto veloce ok è perchè segue proprio il tuo pattern hai capito ok ok ce l'abbiamo fatto non ripassarci sopra non ripassarci sopra si 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 ok ok povero 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 passate nel dietro che ci cammina sopra ok ok come tolgo il fatto che mi sto dando comandi palle sveglia mi devi aiutare mi devi aiutare da aumentare blocco pi lui quindi eucine its' time for the school no 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 non castare fermo chaggia punto ono Chi? Quando è che sono diventati? Oh, Fendal, do it. Fendal, cammina sul pulsante. Fendal con uno di vita. Profit. Fallo tu se sei un uomo, Pasqua. Sono cagato. Sto scherzando. L'ho fatto. E se ha funzionato? Oh no. L'unica. E poi l'unico modo per non avere latenza sarebbe che tipo mentre Stimmi su Twitch lo streamassi su Discord. Fendale un co***o, l'ha appena ripremuto per sbaglio. E se adesso lo ripreme di nuovo? Quena, per favore. Ma è da no! La Tuscarim Experience. Eroico. Minchia. Abbiamo un problema. Nulla, lo posso giù. Abbiamo un problema grave. Lo scudo non parla le magie. E io so com'è fatta la quest per ottenere lo scudo che parla le magie. Non la vogliamo fare. Perché è un assoluto incubo. E' quella dove la gente ti vomita addosso e ti fa danno. Oh, cavolo. E fa malissimo le difficoltà altre quel vomito. Oh, cazzo. Fight me, cowards. E dai, ti ampari via 120 e ti puoi alzare l'anno. 3.30. Guarda questi covardi. Dai, il classico level up per i quei ariti. You can't beat me. Disse Fendal. Ah! Disse subito dopo. Come sarebbe a Yield a Yield Fendal? Alzati. No dai, c'è l'era 30. Adesso ti puoi alzare roba. Andiamo dov'è. Bonk. Allora, fighting stance. La bonk era veramente assurda. Boner Breaker. Attack with me, signor, 25%. B-b-b-boner Breaker. Non male. No. E' quello che hai fatto prima, hai cercato di fare prima, fa Ender il Boner Breaker. Questo tizio ha? Wow. Aveva un amuleto di Arcai, questo tizio. Sì, vai, vai. Un morto, con un amuleto di Arcai. Ha senso, perché Arcai è il dio dei morti, nel senso di riti fiumi. Quello che tu ti ne fiumi, è il dio su cui devi sputare. in faccia, quando si è unicamente, sì. Ah. Fa Ender? I need you to do something. La vedi quella cazzo? No. Activate. Proceed. Magari corri. Fa Ender? No. Fa Ender! Fa Ender! Fa Ender non teme nulla. E' una. E' morto. Fa Ender! La nuova, la nuova, come si dice? Nova Seed, come... Oh, Fa Ender! Fa Ender, per favore, se ci vado io muoio! Fa Ender. Fa Ender, per favore, attivate il chain! Vai, corri! Corri! Devi correre! Corri! Ok, ho fatto. Ok, ho fatto. In grosso, a morire. no 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 fallimento oh Musi si è bacato è nelle pezzi è finita come finita le ombre è stato bandito nello shadow real aspetta un oga deve togliere no eri li eri li poteri stirarla la leva guarda quanto ti vuole questo coglione ok lo stai avendo con molta fiola no porca eva oddio non respiro ok raga adesso aspetta un oga per toglierlo dei coglioni e ci provo io qua è dove la run potrebbe finire madonna santa ok ok e con me crash bandico no 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 di nuovo no di nuovo no di nuovo oh oh nice chad gaming pog todgaming todgaming è uscito è uscito dalla paese ottimo lavoro no no fuck ho troppa roba adesso mi sto pianciando raga questo questo è quello che sei il migliore amazing fendal non colpire i cosi in alto di esplosivo sennò qua andiamo a fanculo boom quale quelli ok fendal fallo fendal fallo do the film di usato l'antimbolo no 50 perché dovrei ok va bene non usarlo per uccidere i nemici facile ma poi colpire le cose a almeno procurati della magia per colpire le cose a distanza no ce l'ho già c'ho spark ma posso dire una cosa una cosa rilassante di giocare in questa modalità ok se voglio devo ricominciare da capo no? però non devo ricordarmi di salvare si è molto comodo non devo premere i tasti per salvare ero vero della spada l'ha tolta l'ha tolta l'ha tirata fuori l'ha tolta ok fai un po' male porca troia che male è parando eh minchie e sky pazza pazza di nuovo e da poco un tipo è stato dopo due giorni dentro un muro l'hanno recuperato fai dal video dei miei muoi città cazzo mi ha rotto fai dal mondo nel multiverso no la io fa endal come compagno è un amico è un amico mi dispiace sempre quando lo sostituisco con elan io non sapevo nemmeno dell'esistenza di fai andal vedi questa è una è una è una stream istruttiva funghi poi sto notando adesso che stai streamando in 614p cosa vuol dire? che è una risoluzione minore dell'HD però è parte della risoluzione in HD minca nevo ci sono dei rati a qualche parte minca nevo a me fa ridere il fatto che tipo mi sono ricordato adesso che c'è il ghoul in alto perchè io non lo vedo giocando a skyrim l'emozione non so pavete due e ripeto cioè l'ha messo per tutti gli altri che non siano me già no mi piace troppo che tipo puoi fare la cosa la la dar solo di parare all'ultimo anche se tipo c'hai un centimetro di stamina che ogni tanto sembra che mi stanno arrivando i colpi invece sto parando cazzo ho pochissima vita adesso questo colpo ti è arrivato? eh perchè non avevo... ero in animazione stavo... non avevo studiato i frame mi hanno fatto AIA! mi hanno fatto lo shine immaginati uno che Wade dasha sui skyrim avete visto quel teschio? è volato ah questo... com'è questa tua è già morta? in genere è vivo hanno ucciso Marsha stai inciampata era detta un rat che adesso comunque? io sto perdendo... le 4 e 40 adesso la condizione è... figo due ore in poi dopo che abbiamo fatto... la religione non ancora persa aspetta questa non è la storia giusta no? o lo è? no mi sa che è la storia giusta... ah adesso c'è il super tizio? no... fuori sa bello scudo bravo il tizio che ti insulta il tizio che ti insulta no no no... io metterei gif di Todd sempre più Todd in giro per lo schermo non è che dovrei fermare un attimo da giocare e farlo e... vado si via come realistico sto gioco ambientato in calabria come si chiama cazzo di nuovo raga un'altra volta c'è un'altra di queste trappole i don't like the looks of these mi piace mi piace dei ricordi di un'ultima di tre stile fenda non ama questa cosa non di nuovo they eat your pants fenda odia le trappole fenda le uno che preferisce le tomboy wow fa andal mi chiamio fratello mi fa ridere che parla mi fa ridere che parla davvero in calabrese oh dio solo per l'anniversario è impossibile è questa l'esperienza che aveva in mente Todd si scaribyl l'ha inventato dopo essere stato in calabria una settimana morrowind l'ha creato dopo essere stato in calabria una settimana no no allora morrowind vedendo come deve essere quando è stato in lazio con dei tifosi della lazio è stato lì temporaneamente gli ascoltati ha detto mh fare i danni e rispiati allora mi è andato là per fare il tipo di tutti ma ho sbagliato tribuna e si è ribeccato non so perchè penso stessi dicendo ho sbagliato tribù e andava bene comunque la team tribù oh no ragazzi è vero la pubblicità della team tribù totti poi ragazzi c'è un puzzle difficilissimo come faremo adesso no 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 fai il clip la devi clippare nel muro pasquia orso falena gufo erano più avanti che mi aveva fatto venire gli incubi di questo tipo di puzzle ok orso falena gufo let's go activate keyhole col mio i miei puzzle di skyrim sono sempre troppo complicati cavolo ecco bisogna spiegare i puzzle di skyrim quando fai puzzle per le avventure su dnd perchè sennò il giocatore non ce la fa ok perchè puoi prendere la persona più intelligente dell'universo ma quando si tratta di farlo su dnd no o no più pronti c'è la posso scala dove no perché si sente si sentivano si sente no e c'è il vostro adesso però che noi non possiamo mettere il volume alla stream ma sono non c'è del casino è velocissimo aiuto no è stato un errore non capisco dov'è questa cosa è stata un errore no non ti sta no aspetta faccio il riposto dell'immagine di jammy no no addio giugiani ecco il riposto mi ha sciottato mi ha sciottato effettivamente oh no come si cambia personaggio da qua perchè quando da sull'odd non mi fa ah perchè questo che devo tornare almeno raga l'abbiamo perso la prossima morte si ricomincia lo salvo perchè mi sono affezionato però giugiano non avevamo detto che era la sa ogni morte si sbicciava personaggio si è in quel senso tipo due vite si ha pensato fosse quando muori ricominciare no quando muori ricominciamo però ricominciare no adesso sono col danmer ok ci si a fine giornata si che si capirà chi è andato più lontano ovviamente ma che tra i utenti c'è small streamer sdc server perchè non mi posso muovere no cosa sta succedendo si chiamava il pgdp mambrogio giugiano 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 padella non posso muovermi si sta muovendo però sembra che sto camminando sul posto cazzo fa qui è la stessa cosa che mi ha spiegato su morwin ti ricordi cazzo vorrà dire che dovremmo rivedere la scena del blocco prego prego vado anch'io l'esposto non è attivo adesso la stream è nostra ragazzi let's go anarchia no no questo è il momento in cui si dovrebbero ringraziare le iscrizioni capito è tutta tattica ah è vero è vero è vero che poi volevo farlo il prime ma non me lo fa fare eh perchè non mi sa che non puoi fare l'iscrizione finchè non sei un partner credo ah ok ok però le donazioni si solo che non le ha impostate tornato come andata? ci hanno donato 100 euro pasqui leo non puoi avere le donazioni se non sei partner grosso ho detto ci hanno donato 100 euro ringrazio grazie ok grazie DAGONAL HUSU comunque ho imparato la lezione non devo ingrandire troppo nel mio ciò meno male che l'ha imparata però era per motivi comici era essenziale ha colpito a noi imperial bastards domanda si come ho Prima ho premuto il push to mute sia su Discord che su Switch E poi ho premuto il push to mute per disattivarlo Mi sento nella stream? In che senso? Cioè mi sento nella stream? Sì Ok Era di farci decapitare da questo assoluto gnomo Dov'è? Bellissimo Non era nemmeno inquadrato No è troppo basso Oh no Che bellissimo È coperto dalla telecamera È troppo basso Oh capipopopopo Mi ha sempre fatto ridere questa parte perché tipo tutti esterrefatti Oh mio dio che cos'è quello? E intanto il boia se ne fotte altamente e continua È girato non vedo Sì ha capito tutti intorno a te iniziano a fare Che cos'è? No no è sordo Ma è un uomo dedicato al suo lavoro No ho appena realizzato che probabilmente lo hanno fatto così tante volte i detenuti che ormai è immune E stavano ad agogna Cos'è quella cosa dietro di te? Mi sa E mischino non si può sconcentrare se no non riesci a staccare la testa bene Va tipo quello di Game of Thrones Va bene Obama Sì Obama e Game of Thrones Allora so di che scena parli Non so chi deve guardarlo Cosa che non dico niente È la scena in cui muore lo scrittore Una frana colpisce in pieno Obama Non stava guardando Nell'ultimo capitolo Sì Nell'ultimo capitolo di Game of Thrones dei libri morirà J.R.R. Martin Dopo su carta Muoviti che abbiamo da fare tizio Rudolf Bogart Aspetta Novità e feedback Modifica visual Abbiamo pisciato Come la ragazzi sono tornata Cos'è successo Ho anche un gatto sulle spalle Cosa c'è vuoi uscire Prima Prima mi saldi sulle spalle Questa è la faccia del PG Romano È bellissimo Quanti incazzato Mai Mai batti Ma tu saresti contento di Di stare in questa rama Adesso si chiama Si chiama Il suo nome Aspetta Sto cercando di guardarlo È tipo Survevir Perché è un sopravvissuto Survevir Sembra il nome di un gelato Sembra il nome di un gelato Sì Survevir Non riesco nemmeno a dirlo Survevir Survevir Inizia a mettere Nel culo Vai Oh no Significa che dobbiamo veramente rifarlo No 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 Stiamo facendo scelte diverse Da quelle che abbiamo fatto prima Ah ok Siamo reincarnati Ma possiamo fare anche Del due build diverse In che senso Eh magari tipo Giugiano lo fai One handed con lo scudo Ma scusa ma se tanto dobbiamo ricominciare da capo Cambiare di continuo Vabbè sì ogni volta cambi build Eh sì Perché dipende dal meteo Dai Perché sono anche la testa di me Do something rudolf Perché sei Perché i crimini di guerra sono stati Che crimini di guerra sono stati combinati Mentre non c'ero Eh sono morto Oh cazzo vedo Ralo Raudolf Ero lì cazzo Ma non riconosco la Ero lì Non riconosco più la zona Non eravamo lì a prendere il zoom Poi ho visto Ralo Ero lì Oh cazzo E' partita megalovania E' comparso uno scheletro gigante E mi ha shotato E' l'interventi anna Al boss E non capivo più dov'era Perché? Ho fatto l'erroi che non capivo più dov'era Quando attaccava E tipo Eh niente Errori Ter scale vi hai messo Troppo Oh fuck Per motivi comici E' morto E' mille Morire per la comicità è sempre Non l'avrei voluto in nessun altro modo Come Come faici ad avere 17 in a one handed? Try it that way Guarda ti ricordo che Allora ti spiego Siccome hanno più vita Ci vuole più tempo a ucciderli Siccome ci vuole più tempo a ucciderli One handed va più in fretta No? Si si va a 17 e 18 mi sembra molto alto Per essere il primo scontro Eh ci è voluto un sacco Oh squisita Cazzo lo sto prendendo da primi per sbaglio Però ho una proposta All'ultima run Proprio l'ultima Prima di staccare La fai con i shit Quindi tipo velocità Super velocità Di tutte le skill al massimo God mode Esatto Che ne dici? Poi vediamo Dai E vado Vado un attimo Quindi se Se la gente Bestemmia Non posso moderare Dai Dai Io torno dopo Wow Ok ciao E' colpa mia che megalovenia Mi ha scritto il cervello Prima Bastardo Paravappa Ma quindi Adesso posso dire Porco Nooo Non vuoi Stop Fermami Stop Dimenticare Guardie Arrestate questo Per crimini di bestemmie Se potessi Se la persona potessi essere arrestata per le bestemmie Si è stato arrestato anni fa Mi fa ridere che comunque non ironicamente è un crimine in Italia Ma perché? Pensavo fosse uno stato libero questo Vaticano Ah qua che vero Vaticano di me Non puoi dire Vaticano senza dire Vati 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 Vidia Ok Mi fa troppo ridere che Joe Biden si è cagato davanti al Papa Ma poi L'altro giorno Joe Biden si è cagato davanti al Papa Ma che cazzo? La cosa più tonta è questa Praticamente E' stata chiesta a una giornalista Che ha detto sta cosa Qual era la sua fonte E lì ha detto molto criticamente E' stata la persona più Come si dice Era un aggettivo buono Tipo la persona più Più affidabile nella stanza A dirgli sta cosa Il punto è la persona più affidabile In una stanza dove c'è il Papa E' il Papa E' Gesù Ah no ok Ok sì Vabbè è la stessa cosa E' Gesù Quindi mi fa ridere l'idea di Papa Francesco Che vada alla giornalista e fa Oh ma Joe Biden si è cagato Passaparola Ok che infari idea perché lo immagino adesso con la voce del Papa Tipo Temosi si è cagato addosso L'abbiamo di te ne immaginate invece come un quartese E' la risposta della giornalista Squid Game Squid Game Game Vai scrive l'articolo Amogus Game E poi per ovvi motivi di design del gioco tutte le rune incominciano nello stesso modo Perché lo Squid è l'unico modo per sopravvivere in questa terra desolata Si va di Khajiit con A mani nude Khajiit è suersi Sai cosa potremmo farlo magico questo Questo dunder Magico magico da nerf Nel mod magico dobbiamo fare attenzione a non farci colpire da qualche cosa Perché Mi manca già fa handals Se non è Mi manca già fa handals Che sta sfecchiando liquido? Io Nessuno è sorpreso Conque ragazzi sto preparando una cosa che sarà utile a tutti per future campagne di NDA o Pathfinder Da preparare cosa faccio Vedete vedete Vado vado Eh mi ha di nuovo spinto questo femore Eh è Geotibia che cerca di aiutarti Potrei morire un ciampallo sul nostro Appunto non ti ho detto che sta cercando di aiutarti in avanti Però se dobbiamo farlo da magia devo incominciare a castare Se no ho un livello più È innocente a casti la prima spell Cazzo Non ci avevo pensato però Se uso il mana per quello non uso il mana per curarmi Basta che non ti fai colpire Basta che non ti fai colpire Per un attimo che c'ho il pinguino Penso che sia un modo colorato per dire che c'è la finestra aperta e c'è freddo No dappare la cacca Ah E la devi dire che ti sta uscendo la testa della tartaruga Ah ok mi sta uscendo la testa della tartaruga E' un braccio di scimmia che ti palpa le mutande E colpiro con questa lantarna di questo works Ah 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 Stan Ah 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 Wow Ah Ah finca siamo già pronti per tornare sul sull'argoniano quando fai un attacco mortale no? ti fa vedere tutto a rallenty solo che non avevo abbastanza mana e quindi si stava baggando va bene è normale che un dammer comunque favorisca la magia ralof? ralof? eccomi sono tornato adesso bannerò onibakunen dov'è ralof? no è andata a pisciare posso fare un time out come si fa raga mi si è... mi si è bagato ralof addio ralof ok sto cosa mi sono persa che non sta arrivando ralof lol dove cazzo è? è ancora dentro ralof no vabbè questo non va nulla vabbè continuo vabbè vabbè canonicamente non siamo... cioè canonicamente questa è la run dove non siamo mai diventati dragonborn perché non abbiamo aspettato ralof e ce ne siamo andati ok una direzione in cui andare a casa dopo che prendo la statua cosa c'era nord ovest sud est abbiamo scelto le due cose che ho poste sud est credo arrivi a riven a quanto pare ignorare completamente ralof va bene comunque per i giorni oh triste povero ralof non dichiamoglielo tutto questo è molto triste tot tot il fatto che non ti usano come borsa non ti salva Giovanni Giugno ferisci oh nooo lascia stare le volpi porco dio va non vestibiliare ah e ti lascia pace le volpi lascia in pace le volpi quando behave hai cominciato tu però io mi stavo trattenendo mi servono le pelli per fare i coltelli che direzione avevamo detto? eh tutte le direzioni un nord ovest o sul sud est non lo so facciamo così andiamo al nord ovest dovrebbe essere un po' più in alto da quella parte ok prima però ok finito cosa stai facendo? ve lo posso ho finito ve lo posso su aeroportico di bergamo sentitevi liberi di usarlo nelle vostre campagne che cosa? nooo guarda nooo 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 va bene grazie bravo comunque ho ottenuto una canna da pesca io non ho il dlc non dovrei poter pescare vediamo adesso lo scopriremo forse mi ha messo a due aspetta però ho sbagliato è di livello 2 questo è di livello 1 eh te l'ho detto che non si poteva la puoi usare come arma? bellissima don't do that mi sta dicendo il pescatore cioè fammi capire se hai se non hai il dlc c'è come arma perchè sono pigri però è letteralmente un'arma dai dai build con la con la fisherod no non possiamo questa difficoltà aspettato comunque si ho semplice ho semplicemente messo ho semplicemente creato giugiano bag of wonders come incantesimo bellissima allora questa qua domanda domanda morale ho appena rubato questo uomo no? però questo uomo ha appena ammesso di pescare illegalmente di ammazzare animali che non dovrebbe quindi è che ammazzano gli animali quindi da parte mia è giusto che abbia rubato questo uomo perché un braconiere non si non si fa male agli animali si passa però dalla parte del torto perfetto perfetto è la run è la run cruelty free questo no questa è la genus oh no dovevi denunciarlo farlo comunque chi è che lo usaresti come incantesimo giugiano ciao maury ciao maury ciao maury adesso lo doxiamo diciamo nome e cognome no no lucianino lucianino no no lucianino ha 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 aspetta che lo mando anche a san il giugiano's bag of wonders è una aspetta 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 lo copio come pareva cancellare un un commento dalla chat non lo so io non lo so io non lo so io beh se vuoi posso darti un un come si dice un incentivo a scoprirlo scrivendo la n parola dai no 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 tanto devo cancellare i miei e poi riuscire a cancellarlo e magari ti si sbloccherò in euro dai è un ottimo messaggio ho capito dove è tutto il problema che è successo niente Pasqua tu gioca a Skyrim non pensare a quello che succede fuori ok ci saranno problemi del Pasqua e del futuro ho appena tratto una caverna ci entro dentro? si non si esplorano le caverne in Africa vabbè cosa potrà mai andare storto? aspetta che c'è un escudo buono la 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 ah porca puttana tu potrei essere morto vi avviso potremmo aver perso la run è così ok no no c'era uno scroll di danno di ghiaccio per terra chi cazzo è stato? c'è uno scheletro wow non si esplorano davvero le caverne ho fatto un passo e sono quasi morto scusa qui eh no non è colpa che cazzo sto come tendero perchè non mi vado a camminare? no oh no dov'è? ma ma perchè? mi stava tenendo fermo la visuale? mi stava il gioco mi stava il gioco mi stava tenendo lì fermo ha deciso che dovevi guardare la tua fine ma c'era una trappa nooo senza amicizia non si va da nessuna parte nooo wow 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 mi sa che mi sa che dobbia tornare a giugiano ragazzi mi sa che si torna a giugiano ma è morto nooo e niente giugiano ho detto che non si esplorano le caverne cazzo argonia è una argonia è una razza superiore minchia here we go again tremendo where were you when giugiano was killed comunque come sto dicendo come sto dicendo a san Kier giugiano's bag of wonders lo nasconderò in qualche pergamena su taig se lo trovate i cazzi vostri se lo nasconderò in qualche biblioteca se la trova qualcuno lo puoi imparare si allora lo metto con l'incantesimo disponibile per i summoner così lo puoi usare reggiro ti strappo la faccia no matter how tight nooo oh mio dio non leggetelo adesso oh è un incantesimo che funziona ragazzi l'ho fatto con le regole per fare gli incantesimi di Puzzle i will fucking kill you i will fucking kill you corpse works perfectly like a bag of holding and any orifice no matter how tight can be easily accessed and penetrated by a limb no matter its size but piercing the belly of the corpse are come here let's see no oh see you let's see so Giugiano vive di nuovo Mi piace che la vita di quel povero Dunmer è finita Puoi fare la cosa Poi tipo spostarti Grazie Voglio distruggere il gioco Mettendo una scopa di traverso in questo muro Hanno tolto il pepe Dalle icone di Twitch Sei come quei cani che vogliono entrare in casa con un bastone lunghissimo Ma non faccio Di solito i cani non riescono a clipare Hanno tolto pure il povero Pogger E' un simbolo d'odio Remember what they took from me Era un simbolo d'odio Mi metto a giocare ad Animal Crossing nel mentre Ok però è importante Leo Ogni tanto voglio sentire i suoni Dove sentire il Va bene Quei suoni che li fanno capire istantaneamente quando uno sta giocando ad Animal Crossing mentre su Discord Aspetta 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 perché già ce l'ho pronti non c'è bisogno Questa questa sta per diventare una Una stream di Isabella Così parla Me lo devi trovare quel video comunque L'ho perso è quello del tizio che rifà la voce di Isabella Aspetta Aspetta Buona volta Pena da pugni Non ho mai visto Che ha le mani nude Allora non lo so perché ma l'immagine dell'Aigoniano vestita da Imperiale Che prende a pugni un tizio Posso migliorare la cosa? Dammi un attimo Io mi devo un attimo mutare perché devo far male su un gioco di ritmo con canzoni col copi Un attimo solo Stinchi Aspetta come si chiama? Un attimo solo è importante perché fa ridere questa cosa Non mi serve No non è questa Gaming Gaming E' il ruccio gaming E' il ruccio gaming E' il ruccio gaming E' il ruccio gaming Un villager lucerto la ti picca Ok Cazzo no mi stanno inseguendo ti sento nell'eco sento il ti sento che è sempre un la ripetizione dell'audio aiuto stavendo un ictus non so più parlare sento l'eco è alt non lo sono io si è l'unico illuminato si perchè ho alzato un attimo il volume per sentire musica di nema che assente beh mi dispiace è pronto una giornata pacifica è troppo alta cosa? la musica di animal crossing io non la sento come non la sento? no neanche io la sento ma nello stream? ah no io non posso seguire anche lo stream ho solo il discord aperto quindi non vedi l'avventura? no la vedo sta scherzando semplicemente non ha l'audio ah ok perché per motivi comici ho messo la musica di animal crossing mentre picchio la gente apprezzo apprezzo anzi no cambiamo completamente tema la battuta mi ha dato un altro idea questo musica di animal crossing mentre vai a compiere crimini di guerra let's go la lucertola della yakuza pasqui ne approfitto del momento pacifico per dirti che per ringraziarti perché stasera avevo tante cose da fare noiosi tipo pulire i cardi pulire le castagne pulire i prataglioli ma iocardi? che fan bagnati oh il mais ecco qua no il mais è bellissimo da pulire stai scherzando? i cardi sono molto peggio ti pungono ti pungono ti fanno le dita nere e sono amari se non li pulisci bene quindi mi piace un punto pulire la cipolla non so il perché mi dà una bella sensazione più d'altro è liberatoria ok io devo piacerevole però mi fa piangere lol mi dà una scusa per piangere senza i tuoi errori scherzo ovviamente per questo che io giro sempre con una cipolla in tasca giuro no aspetti devo fare devo mandarvi lo screen di questo qui che ha scritto un post su twitter e gli ho dovuto rispondere a modo mio dovresti stare bene devi sempre bene ma per che indosso la maschera? per non farsi riconoscere ma se si toglie quella macchera è riconoscibile con la maschera qual è la musica più pacifica che posso mettere di contrasto per far ridere? mmmm 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 over the rainbow ok oppure quella mi sa che ha il copyright quindi non puoi ah fuck quella è il pianoforte con la reverse flow music loop e anche quella c'è un botto di copyright in effetti lol vivaldi non può avere il copyright mi piace trovo questa frase fuori dal contesto vivaldi non può avere il copyright togliamo il copyright a vivaldi sciocco vivaldi osserva procederò ora a morire per colpa dei ragni epico epico sembra un tipico giorno in Australia una lucetta gigante si picchia con dei ragni si eh rudolfo rudolfo c'è un ragno sulla mia zuffa cazzo degli di potersi oh cazzo sta diventando un problema ma Gianni ma Lucianina cosa ha fatto? lo vedrai dopo che è finito cosa ha fatto? si è la verità che cosa ha fatto? questo uomo sta sputando affatti c'è uno screen che vedrai dopo sicuro uno sta sputando allora az tutto sta facendo meno che sputando è vero state rovinando il momento classico non è che Skyrim sta tirando fuori il peggio di noi implicando che non sarebbero cose che verrebbero fuori anche senza Skyrim questo è un fatto malissimo correndo sul carro non ho mai fatto male il carro non capisco let's go nooo ah fuck no no bear prepare for un bearable consequences bear bull bull bear bull bear devo ricordare alla regia che stiamo giocando alla quasi alla difficoltà più alta non c'è no non c'è fai il lo tirai teatro po' perchè sei già morto due volte no è il contrario sto dicendo avete visto quanto è stata fatta eccomi sono tornato no non sto dicendo no vado io sto dicendo il contrario questo gioco è facile pardon no è perchè ti sei abituato alle persone sudate che sono tipo io gioco colo a ma non è che ma non è che tipo hai rimesso la difficoltà facile non lei si ha salvato però ho detto fa attenzione che hai già preso due volte si è di nuovo giugiano dobbiamo rifare un'altra build o rifai quella della scena le azioni che faccio sono completamente dettate dal caos e dall'umidità quindi adesso lo stavano andando di pugni ok ok che questa è bestia perché capito se non è palloso vedere io che parlo con fan per la decima volta per imparare con l'arco di piccole frecce super tu sai quello che i spettatori viviano le cinque persone che sono costruisco però in persone vicino importante grazie pochi ma luogo pochi ma buoni fate i buoni che bella gioca si andrea anzi mamì pensavo di essere l'unica a rispettarlo scusa è che non gli funzionano i polmoni quindi ormai ci si fa che andrea per l'attenzione al gioco si avvicina sempre di più non vedi l'ora che qualche altro animale venga violentato si compra una borsa di canastro pelle di cucciolo di foca si si sono venute 67 poche per fare questa borsa ho sbagliato ragazzi ho sbagliato merda ma fucking genius oh fuck come ti chiama la mossa di randy orton ti prego ma fai le palle anche io forse ho sbagliato boh cazzo fa malissimo questo pescatore questa pescatrice vabbè ah infatti adesso ma è una lei nello va come stai va come picchia le donne bravo credo nei pari diritti nooo che non mi fai diritti nooo così ma dai ma dai è uscito da una di parola nooo ma dai ma che cazzo 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 mi piacca che siamo all'inizio molti col boss è ok onore e rispetto poi abbiamo iniziato a spendere benissimo come è giusto che si riusciremo a fare anche di un passo adesso devi installare la mod in cui ogni volta che fai un passo spawnano 20.000 orsi cazzo se di nuovo bagate non posso scaminare figo come prima come prima fantastico true skyrim experience ma io non voglio rifarlo da quel punto lì non c'è tipo un quick più avanti ah ecco perfetto perfetto ragazzi salvato povero sciocco pensi di avere scelta salvata la run ce l'avevo fatta ma quindi adesso siamo ancora con giugiano no siamo tornati al dunner ok perché il dammer è morto da su vedi il dammer era morto contro una trappola e adesso è tornato invece mi piace che tipo giugiano è morto la prima volta contro l'assoluto boss e la seconda contro una donna è la stessa cosa è vero rispetto per le donne assurdo sì anche le donne possono essere morti anche le donne muoiono cosa avevo voluto dire con questa fake news ma poi ci insegna il buon il buon colombo però sappiamo cosa non fanno le donne è che per rendere la cosa il meno pallosa possibile sto speedrunnandola ogni volta che usciamo da sta cazzo di caverna sempre più veloce oh yeah ma almeno l'inizio di scari me lo sappiamo a memoria tra un paio di giri farà tipo un video di di info perché mi ha cominci a buggare il gioco in maniera violenta non è accesso alla la capboard che c'era lì mentre stavo con Marten è magico sto gioco è veramente magico e non nel modo giusto esatto io dico che è il modo più giusto con questa monta puoi comprare per il DLC per il prezzo di real monta 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 visto che un Danmer è davvero il mago Forrest potresti morire C'è la musica classica Non posso morire durante la musica classica Anche se sono morto contro una D Prima, mentre c'è la musica classica Sì, come se non ho più l'ho? Oh ragazzi, è molto sweet, non posso Vabbè, sarà un casino Perché probabilmente morirò subito Con i vestiti da mago, però dai Let's go, build magica, raga Vai Mago corazzato, fai un magus Il problema del mago corazzato è che ci sono Parti dell'equipe che mi servono Quelle che mi rigenerano la magica Sì, te la devi incantare specificatamente Un culo Sì, non è esattamente un gioco in cui è facile Fare il mago corazzato A meno che non abusi enchanting Mi scenderebbe Non c'è un punto Non c'è un punto Da cazzo a Ralo Sì, non c'è un po' E' stato un po' Ma in fondo il vero Ralo Siamo dei miei amici che ci siamo fatti lungo lo stesso Lo stesso più tecnico di fuoco Esatto il per il mio e il mio e il mio e il mio non ho tempo da perdere con gli imperiali bastardi vero roleplay il cedito una giornata uggiosa molto uggiosa ma in real life? no in real life è una giornata di vero sta piove non che non esista una giornata dove piove e sono un bello giornato per sicuramente parlando però a me piace la pioggia ci è bella però io volevo stendere scusatemi ragazzi io devo essere la peccola nera e dire che odio la pioggia ma perchè l'umidità mi uccide dai che sai un motivo cosa non ti uccide allora è fastidioso dopo che piove spunta subito il sole la io l'ho già testo si vero 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 che tipo hanno messo la canna da pesca anche se non è dlc ma la puoi usare come arma e non puoi pescare è davvero una cosa più tò è bravo vero veramente ok maledetto hot tower da come fa a far la franca ogni singola cazzo di volta è giusto 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 un sacco di mano a questa build però sta dando soddisfazione una cosa che non vogliamo fare è incontrare un troll adesso perchè chi apre il fuoco ma no chi apre sono fortissimi troll su skyrim ah si? e io li fico tre dita negli occhi no e va perché hanno tre occhi quando ho sentito il problema è che ho sentito fico e ho cominciato a terrorizzarmi la 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 no ma anche il troll lo fico nel te lo fico nel te lo fico nel... TRULLO la visione la visione del troll da vicino mtia ma quanto slap a Vivaldi no 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 non arrivo te lo dallo no no Comunque voglio il remix, voglio uccidere il pescatore Stavo per capire voglio il remix Voglio il remix Vivaldi featuring Dante Se Vivaldi è così figo, dov'è Vivaldi tuo? Le quattro stagioni ancora La quinta stagione Potentissimo Eccoci qua, non è più una donna però Ah no cazzo, è di nuovo una donna Beh È sempre lei È il momento di vendicarti Cazzo, no, perché è così forte È fortissima Ci sa, ci sa Usa il formaggio Usa il formaggio Mi ammazza il fatto che si è alzata lentamente tipo Povero Gio Gli sfidi di nuovo anche con questo nuovo pupazzo di carne Farewell Un nemico degno È un cazzo di pescatore Questo è perché non avete giocato all'ultimo gioco di Yoko Taro Sì, lì c'è tutta la lore necessaria per capire Perché è la pescatrice così forte Esatto Nel senso del ca Nel senso del ca Nel senso del ca La visione La visione della fig... Ah cazzo Addio Noi abbiamo queste cascate Ma andavo sempre con la cazzo di carne Addio Che figlio Mi pensavo che puoi pescare letteralmente raccogliendo i pesci No Ma insomma ci andavo sempre anch'io quando ero figo Poi faschi anche io La puoi pescare letteralmente raccogliendo i pesci Noni Fisce Le piche Questo mago sta arrivando alla città dall'acqua Ok ragazzi Oh no È un reanger Che cammina sull'acqua Ok Lo so che non devo rifare i trick e ballacche con Fahendal Però ho un compagno serve Quindi mi sa che Fahendal lo recluto con me Senza fare il trucco della pesca What is it, mother? Adesso va a dragon No, non voglio Picchettare casa di Fahendal Dov'è? Dov'è? Allora Non può dentire il nostro acquaio Sto fendal è il nostro acquaio Ok Ok Hello Queen Do you want me to fletch your arrows? Non I crimini di Fahendal non sono perdonabili Wow ho quasi completato la stanza di Harmony of Dissonance Questo è molto importante Io ho quasi completato la mia Sì Io odio e amo Animal Crossing allo stesso tempo che è surreale Hop 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 Dov'è? Questa è la lettera da parte di Sven Cioè Chiare? Quanto diverso del fatto che Just Belmont Speramente si sia detto, sì, devo salvare la mia fidanzata, però prima ridecoriamo questa stanza, così. È brutta, va rifatta. Dove fai andare? Mi dava fastidio. Cioè, era molto importante anche salvare la sua ragazza e il suo migliore amico, ma quella stanza faceva veramente cagare. Per chi non lo sa, mi sto riferendo a un Castlevania in cui il protagonista trova una stanza da ridecorare, una stanza vuota, tipo la sotto quest del tutto il gioco e che trovi in giro pezzi di mobili e li aggiungi a quella stanza, perché lui proprio entra e dice, ma questa stanza andrebbe ridecorata. Il bello è che ha dentro perché deve salvare appunto la sua ragazza che è scomparsa e il suo migliore amico che si sta comportando in maniera strana, probabilmente con qualche possessione demoniaca. Ma no, lui si prende il suo tempo per fare un po' di interior design. Ha ragione. Ha ragione. Non so, ma è un servizio con un tomboy. Ma io non so cosa abbiate. Allora, io ho sentito soltanto tomboy e gli do ragione. Sinterhouse come se è una tante della fitta di demoni e lui lo squartano, ma lo fa diventare enorme. Ah, sì, slaughterhouse. Cazzo, per sbaglio, ho rubato un secchio, scusa. No, Pasquale, cos'hai fatto? Questo è un crimine inaccettabile. Pagherai. Rimagli che non quest'uomo vestito da mago che ruba un secchio. Senti, zio, non l'ho fatta a porre. Quest'uomo, questo luceo. No, no, è un problema, è ora, quindi è un elfo. Però non si vede al capuccio. Senti, zio, non si vede al capuccio. fortissimo proprio senso del canto come corre con le mani a porto andrà comunque a quel quel platter house ci ha messo l'immagine su discorso ed è per 2 3 sicuramente perché è un remake di un vecchissimo gioco a fredda eccolo in 2g bellino anche qua povero servo devo livellare che è che è entra in film almeno qua non ha non ha fatto cosa dopo almeno sto perché ogni tanto mi fa vedere il video l'allentatore dell'agente in tippos che poi muore che è skyline è parte dell'esperienza fasqui non capisci però vi commenta che quelli non siano banditi no ok meno male perché non li vedi come punti esperienza no lucianina solo gli animali solo gli animali e vedi che adesso che entra in un villaggio di red card dai nooo nooo perché sono nooo basta dai raga ho una domanda etica da far se ne posso se ne posso noi siamo molto etici chiedi chiedi ha detto etici o epici non ho capito etici si allora quella storia della fede verde se una donna paturisce il figlio nasce morto oh no non credo questa è un'ottima domanda allora se muore per causa naturali quindi tipo muore cioè nasce morto ma perché aveva problemi lui penso non boh non succeda niente è un argomento che muore per colpa del cordone umilicale della madre penso che la madre allora mia madre mi aveva detto minchia tremendo eh niente scusate fa proprio io di tre è mello è l'or eh zi tocca è tutta l'or purtroppo nooo dai cosi te stop non c'è nina sennò l'audience si si scandalizza stop no more no vor non smetterla quelle trolle che fanno arriva con uno ok basta oi gore vor galore mandalore mandalore gaming beh si gaming si gaming fuck you non puoi dire gaming senza dire se non ce l'hai nel sacco se lo stavo per dire con la bambina con la bambina siamo di nuovo a white run di ruggi con la bambina comunque ho notato adesso che il nostro ruolo è praticamente quello della jalapas commentare commentare perché ci sono cose che non fanno ridere finché qualcuno non è lì che parla è parla è parla è parla ma poi camador dico beppe dico beppe beppe lo vuoi sentire una barzelletta tremendo c'è un clown si c'è un clown ha 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 che pagliacci c'è un clown hopi 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 fine alla barzelletta c'è un clown e c'è una società ci viviamo no Mago, 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 insegnami No È in dove di gioco Produce un incantesimo per cagarsi addosso No, qualcuno aveva nascosto una pergamena di quello Nel inventario di Joe Biden È stato il papa Il papa che ha fatto un incantesimo non verbale Scopriamo così che Sei davvero troviato No, no, non hai capito Ieri Joe Biden Il presidente americano Si è cagato addosso Mentre era in visita al Vaticano Che gli scappava No, 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 no Si è cagato addosso Davanti al papa Per le emozioni? No Per la persona L'emozione intestinale c'era E tra l'altro E tra l'altro Eppure è stato tamponato Un tizio a Roma ha detto Eh, non è la prima auto Di quel tipo che vedo Non mi interessa Avevo fretta German A gioca Questo è romano Cioè, questo è romano Che rispetta di più le colici esterale Questo uomo non doveva venire in Italia You came to the very young neighbor No, mi diritti Ho riso perché ha detto venire Wow Cinque anni No, ne faccio quattro Cioè, e poi siamo noi, eh Pasqui Stai giro Spero Ma che siccome Ha detto la parola con la V Siccome è la run Harry Potter Devo andare a Dove cazzo era? No, non lo puoi dire Dove era? Era Che cazzo di città era? Non mi viene il nome Eh, non so White old O solitude Winter old Winter old Winter old Quella con il collegio Però allora devi Fai la run Harry Potter Ma fai la run del Del college Stentare la magia No, no, no Stiamo facendo Stiamo facendo Quello che va di moda Su Twitch C'è la reaction All'episodio di Il collegio Perché Twitch esiste? Non lo so Perché? Ok, adesso mi sono Cosa abbiamo fatto Emanica Ah, siamo arrivati a quel punto Ci dovrebbero essere orsi E altre bestie Ma Oh Fammi giocare Basta Potentissimo È la forma finale di Giugiano Ah no Questa è il Dumber Contro un animale Innocente È fortissimo Innocente Che ne sai che non ha tradito la moglie Comunque Effettivamente Perché non ci sono canali che si comportano di volaggia la passa Cosa ci siano? No Ho detto di no Ho detto di no Ci sarà qualcuno Ho detto di no Ci sono i canali di prom Oh mio ti ho detto di no Allora, Luciani Raga, basta Sei distrutto No ci sono Fa che hai perito i primi Scusate il primo a morire in diretta Oh no 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 Mi spiace il secondo Mi spiace ma il secondo Mi spiace ma il secondo Che è il primo? Questa è la prova che il Twitch non vanna Basta Via libera Tizz out Posso dire la n parola? No No Via libera Che cazzo Puoi dire Napoli? No Se lo faccio a due mani Ma tecnicamente Napoli non è un Tipo un aggregazione di svariati n parola Quindi dire Napoli Non conterebbe come dire molte volte La n parola Raga, quanto arrivo di Conjuration Prima di smetterla? 69 Hai chiesto alla gialappa E la gialappa ha risposto Non posso stare qua a fissare questa volpe morta Mentre li lancio a spela addosso Entro a Fendal Mi guarda È morta a bocca aperta Puoi farlo? Facciamo così 30 e incomincio la cosa della scuola Va bene? Chissà Ma prima che finisce la quest C'è in devi arrivare a 69 Un vero arcimago deve avere almeno 69 in Conjuration Sempre Gaming Survivor è un mago Un mago È la volta che sopra ho vissuto di più Allora sto sperando Nell'RNG Perché se abbiamo culo Ci dà come spell Sammonatronach Questa tizia adesso Perché ci chiede Si l'opera lo ha detto Adesso le spell che ti dà È Giugianos Bag of Wonders Sì L'unica spell che conta Giugianos Bag of Wonders Ah cazzo, c'è dato una cagata Ok, Kier, qual'hai detto i personaggi spellcaster e userebbe quell'incantesimo Stai implicando i roba degli spellcaster Ah, spero Dove hai qualcuno? Hai cosa? Hai il vecchietto, come si chiama? Ah, è Ariel Serulata Serulata, ecco Non c'ho solo Non userebbe questo, lui è classico Raga, non c'ho i soldi per pagare la spell Fammi entrare Let me Ok, come faccio 25 gol veloci? Fahendal, dove sei? Ce l'hai i soldi addosso? 25 gol veloci Sembrava qualcos'altro Se molti si perventi, il povero Fahendal Oh no Poi ti pago un caffè, Fahendal Devo avere qualcosa da vendere C'era? Minchia, questa cittanata Giura, Fahendal Non sei un negoziante? No Un allegro mettieri mai, Fahendal Sai benissimo che non lo fai Giura Questo era un negozio Un frozen earth Però avete soldi da prestarmi? Devo diventare un mago Se ne vada Buongiorno, avete soldi Ragazzi, devo diventare un Mi hai fatto cagare Fahendal Non lo fare mai più Mi scusi, ma non è che c'ho due euro Che voglio iscrivermi alla cadena di Winteroth Caga Perfetto, abbiamo messo l'ho Ce l'hai Ce l'hai un gold coin Passami lo sdrogo Squid Game Squid Game Groda Passami lo sdrogo Che c'ho la riceriglia in K A parte Ciao da white Poglio 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 E' vero e' terribile col pollo Ok ho i soldi Poglio 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 Ok, mage light Guarda, so castare mage light Guarda, so castare mage light Fammi entrare Fuck you Fammi entrare Sono un mago Non vedi? Fammi entrare Non tu credi in wizards? Let me in Mi sa che c'ho tutto Posso andare a fare Il Vos finale E' mio Il Vos finale BASTA Che ho detto? Di bando Non ho detto niente Ok, siamo dentro la scuola Oddio Oddio The kids Sta commentando il fatto che questa scuola era piena di dark health Non c'è più rispetto per le tradizioni Una volta i dark health dovevano stare in fondo sul carretto Lucianina E' vero E' bello che abbiamo preso una strada totalmente diversa da prima Se non è palloso E' bello così E' bello così Boh, non è così Non è così Non è così E' bello così È bello così E' bello così È bello così È bello così È bello così È bello così Welcome Welcome Lo sentite molto? Welcome Welcome Ciao Gandalf Aspetta, per farlo canone veramente Gandalf deve essere un pochino più basso Ciao Frodo Aspetta Drogo Baggins Drogo Baggins Shut up Smettila di unborsare la gente Oh no, ora so dove siamo Siamo nell'universo di tesoro ristretto i ragazzi Non di nuovo Maldetto Nick Moranis È l'ultima volta che vi intrappoli qui dentro Il prossimo personaggio che faccio userò Rick Moranis come prestavolto decisa Vivaldi Dai Mago, stai mi stai annoiando con queste stronzate su Vivaldi Gaming Vivaldi Gaming Vivaldi Gaming Vivaldi Gaming I like your words Magic Man I like your funny words Magic Man I don't understand Ok Vuole che blocco la spell Ok Colpisci mi Go Let's go Hit me harder daddy No Vedi che toglie il war dall'ultimo e si fa colpire appositamente Professore ho sbagliato Ho sbagliato Come devo rifare Spero proprio di non sbagliare di nuovo Ho fatto cadere la tunica e si è stato colpito sul capezzoli Ops Sono proprio distratto Ho fatto cadere l'olio sui miei testicoli Spero che non vengano colpiti da un incantesimo di fiamme E questa è la mia sky experience L'olio Ora dell'olio delle palle Vivaldi Gaming Vivaldi Gaming Che palle sperano? Potremmo ben mettere da parte dei soldi Comprare a Pasqua un modello da VTuber Però basandolo su Vivaldi Sì Wow Vivaldi Gaming Vivaldi Gaming Dov'è Feindal? Pasqua Feindal Sta venendo violentato nel Frozen Heart Fai cazzo Chi hai detto Azz? Vivaldi Sì Vivaldi Vivaldi non esiste Penine Milo Wow Vivaldi Volevo dire Prenda Non esiste Prendi la pillola Ma sono andato a perdere Vivaldi non esiste Mi sembra Skyrim per scoprirlo Assunto Che stupidi babbuini È impossibile che Vivaldi esista Ci pensi però Vivaldi come compagno Soscaro Io mi fiderei di Vivaldi Ma cosa hai detto? Sì cioè Invece che io mi fiderei di Vivaldi Ho seguito Io mi infilerei Invece che io mi fiderei di Vivaldi Allora Ahahahahahahaha Che cosa impazza Che sta Che sta Mi sta guardando con la stessa faccia che ho appena postato Che è vivaldi per l'ultimappunto Basta, non c'è... Ah, mi fa male il polmone Di nuovo L'ultimo rimasto Cabbage Apple Tomato Apple Apple, tomate Cabaggio Flower Non è normale che ogni volta che dicevate Vivaldi Mi partiva una canzone a Missica Né in testa Sì C'è qualcosa che... No No, 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 no Anche Missica No, 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 no È Missica Aiuto? Ad, vai sull'aeroporco Dammi un attimo Tomaco No Sto lacrimando Visto che al tab vi guarda anche la cosa che ho scritto io prima È troppo lunga È la spell È Giugiana sul Vagofland Gaming Fammi entrare Ma è un caso raga che se a Skyrim togliete una lettera si può leggere Scream Questo è molto triste Davvero triste Posso avere... Vivaldi Vivaldi di Spasito Vivaldi di Spasito Ti figli ed esiste Vivaldi di Spasito non esiste e non può farti del male Vivaldi di Spasito Io guarderei se ero porco di Bergamo dopo quello che ha appena detto Nooo Nooo Riempire un coniglio di scuma e poi cucinarlo Cosa succede secondo voi? Ma perché? Gamer choice Mi sono dimenticato a dove devo andare La Skyrim experience I don't know where I'm going But I do know where I've been Fuck Dove cazzo devo andare? Fuck bitches Mi sono perso E' appunto che tutto è scuro su Skyrim Non si capisce mai un cazzo Forse lo da questa parte Sì No I'd be amazed If we find anything You smoke here Fuck Senti questa cosa Si trovia No Però chi entra? Prima sono andato che vai alla gatta Per vedere se ti posso ambientata E tipo Ah l'ho toccata E ho iniziato a fare le scuse E poi sei troviata E ho fatto un po' che Adesso si racconta È proprio tua Non punta Non punta Boh Quando a me mi accarezzavo Ne scorreggiavo Non erano contenti Non è giusto Doppi standard della minchia Pazzesco Troppo magico Sto posto raga Vieni O sei troppo alto Non ci passo Guardalo Sto a più Problemi che non vado mai Vieni Cammina Ah cazzo Hai anche il passo molto più lunghi di noi Perché non fai in fretta Ah è come una cosa Che non ti dico È sparito Hai detto? Ok una cosa che Oh Oh Stupi Ma Vabbè è un mago Insomma Non ti puoi stupire più di tanto Comunque stavo dicendo A quanto pare L'altezza dei personaggi in Skyrim Cambia leggermente La velocità a cui si muovono Più un personaggio è alto Più si muove in fretta Eh ha senso Non ha un caso di senso Che sì Hai i passi più lunghi Eh ok però Non ha senso dal punto di vista di gioco Eh è anche vero quello Infatti non ha senso Adesso persone alte dovrete Su D&D quando sali d'Italia No Hai le gambe più lunghe Quindi fai i passi più lunghi No Dovete stare al passo di noi nani È razzismo Non sei così basso Ma è tool shaming Leo quanto sei alto? Non si dice in live Ok 1,73 è così basso Non si dice in live Hai sentito? Chi è? Fottiti Nessuno mi basse quindi Oh bello però rispondi ai tuoi fan Che scrivono in chat Leo non mi avverte Cosa hanno scritto in chat? Leo cos'hanno scritto in chat? Niente li banno No Hanno detto No signor Mi racconti la Lorde Il suo personaggio La tre goce a sangue ovunque No Non ci può Non ci può La scrivola è un incantesimo Per far rimettere insieme i genitori Wow Mi dispiace piccolino Non lo so spegne Bucare il presentativo Oh no Interruzioni Mi gesto l'acrima Anche io Zimbabwe Comunque stream da tre ore e dodici Pazzesco Stiamo Solitamente andando a schizz Dodici ore in coming Psycho mode Ah beh teoricamente dovremmo finire stanotte alle treno In che senso Per fare la dodici ore In che senso Leo io devo Facciamo la dodici ore Pasqui Leo io devo mangiare Dodici ore Pasqui Io devo mangiare Guarda che Skyrim dopo la mezzanotte diventa una zucca E' vero Wow Sto spostando seriamente ed ero confusissime Non è un bug è una feature Cosa succede se la mangi e poi non è più mezzanotte Esplode Sciocco E' mangiato Skyrim Non mangiare Skyrim Pensa come si sentirebbe Todd se ne mangiassi Skyrim E' bastare che lo comprare un altro C'errebbe lì Ah ti piace te ne posso vendere altri sette No Todd per favore basti Mangia altri Skyrim Mangia Mangia Consuma Consuma Ci sono troppi draggerne e cose varie Momii Momiii 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 Non c'è nessuna momii Però almeno c'è lo zio C'è zio Paolo C'è zio Paolo C'è zio Come cazzo ti chiami? Vabbè c'è zio Tocco il dirra Ma che cazzo ti chiami? Vabbè c'è zio C'è zio Fa-ppa-ppa Ma perchè sono mini? Perchè li hai fatti mini? Non hai imparato di non modificare la grandezza? Ma son normali Leo è la loro dimensione base Si si No son serio Leo Wow mini sveglio dubbio di questo baby baby o le prospettive fottute allora sì anche io troppo se siamo minuscoli a qui si sta volando gli zombie zombie bambini i bambini di minecraft indifruttibili sostanzialmente come cazzo si esce da questo posto di merda con gli input uscite l'avete concepita in sto posto di merda ma aspetta un po' mi sa che posso potenziarla a distraction sì devi contattare il signor distruggere però tremendo wow no 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 Fuff Fuff Sparapam No Cucu Il sound effect proibito Spivippi Spivippi Trendal Wake up Wake up Spivippi 9-11 Pensa Scappa No Scusate un cazzo secondo Cosa mi ha ucciso Una trappola Ma non c'era una trappola E' seri in fiamme E' appunto Here we go No Stiamo andando così bene meglio meglio sono più contento che tornare giugiano io io tifo per giugiano raga uomini che odiavano le donne giugano a anno nel nome con chiedenze io non credo tremendo che poi giugiano odia le donne ha messo tutto chiuso dalle donne assurdo è per quello che le odia prima non le odiava poi in questo limbo eterno alizia i tuoi tuoi fammi passare giugiano che si allena per riuscire a battere le donne giugiano ha chiamato il trainer più potente per questa cosa mel gibson no posso dormire in questo l'eterno se sei un bot indietro dove cazzo sono? no non di ho fatto il salto sbagliato oh oh devo rifare sei all'entrata ok incominciate a pensare che cosa ci possiamo inventare per avere questa run diversa dalle altre no 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 cosa? si dual wielding dual wielding si dual wielding arciar estelto dual wielding da maniera estremamente autista moderatore sondaggio in chat no no vai come si fa a sondaggio non ho idea come si fanno queste cose mi immagini il moderatore che mi ne cia di bannare ma in realtà non sa dove si banna ok ragazzi ho già un'idea per rendere questa run speciale ah no i pronostici e sondaggi devi essere partner mi spiace Pasqui allora raga adesso vi mettete tutti d'accordo decidete una città di questo gioco eh io non le conosco ma almeno non me le ricordo più con la m la prima che mi trovo ok una con la m raga marcat 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 no con l'acca finale no con la m k lth non si riesca a tornare a scari perché mi si sta incansando tutto ok ma ha detto hanno scritto giusto è giusto sbagliando il codice forse intanto vivaldi ok un attimo solo prego prego vado pescando su animal crossing il rumore della tastiera mi ha fatto premere è scappato un pesce gigante grazie ok ok so come arrivarci prendi un uber e via oh dio sta caricando a che mi sono spaventato eccoci qua questa non inizia a marcar la vita mai kaitopoli è bruttissimo ecco da marcar c'ero finito per caso la mia prima volta che ho giocato lì che giravo lì ah una galleria entriamo dove cazzo sono finito in francia no no quindi sono in austria oh cazzo aspetta c'è qualcosa che non va però qui la vita a eniopoli è uno pallo ma corri vola in eniopolo si vanno storie di eni ma che eni e non c'è qualche parte a eniopolo fischiando l'orecchio ormai ci ha abituato mi sa prima c'è il team night just another golden tuesday ok adesso che siamo a marcar potremo fare la migliore cosa che puoi fare a marcar e andarcene esatto ok usciamo da marcar fai la fai la fai la sotto queste delle c'era quella che c'era i carnivali no la mazza di molagval dobbiamo ottenere la mazza di molagval già il lavoro di molagval un degenerato come lui sicuramente la vuole dobbiamo ottenere la mazza di molagval ok torniamo dentro dobbiamo ottenere la mazza di molagval ripetilo non l'ho capito la mazza di molagval bellissimo la cacca mazza che mazza no 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 non la cacca di molagval non la tazza di molagval intendo la mazza di molagval ma lo sapete cosa fa? la mazza di molagval no praticamente se una gemma se una sol gem vuota la riempie con la persona che uccidi con l'ammazza di molagval quindi praticamente una pokeball che invece di prenderli ripicchi li uccidi e neanche ripicchi dove era la casa però? è una di queste beh asha ha rubato l'anima misti nella stagione come? perfetta come? non so perché la mia testa è completamente senza come? perché sta guardando in alto questo? ah c'è un warlock eh questo qua mi ha detto ah aspetta un cazzo di secondo questo qua mi ha detto ah I don't have my way adesso lo rimpicciolisco e poi guarda qui eh ah 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 risburro bigò questo è l'abitante questo è l'abitante più amichevole di Olgosolo non ero non ero mu ciao maurì ciao maurì guarda c'era stata abbandonata google dov'è ok google dov'è la mia dignità lei non marca che poi potevi diventare cannibale si è lì che puoi diventare cannibale non è questo l'amore nooo era cannibale nooo 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 ci dovrebbe comparire un tizio dovrebbe comparire un tizio che fa quella casa è strana la raidiamo boh non sta comparendo il tizio forse devi essere di un certo livello noi che siamo all'uno non abbiamo fatto niente noi siamo ancora nudi siamo apparsi lì si noi ci siamo teletrascordati a markart tremendo non è così che si gioca skyrim molag mace controllo se ci sono dei limiti di di molag barra hai detto deve essere di un certo livello lo sai deve essere livello 18 ciao davvero tutto al 18 tutto al 18 tutto al 18 non è andato perché si devi entrare nella casa per entrare nella casa per entrare nella casa devi comprare l'npc perchè è chiusa per vediamo bene un po' 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 secondo me comunque non ce l'avremo mai fatta senza le motion support goal lui è l'eroe indiscusso non vedo non vedo non vedo tre requisiti questo questo comunque deve arrivare lì per iranus che ti dice ue zeo eh non c'era però vabbè ci torniamo dopo allora sta facendo difficoltà a uccidere una capra no guarda che l'animale migliore che c'è la capra dopo una donna no l'onore l'onore del nord non c'è io lo posso dire io lo posso dire dopo il mitico quando il mitico vecchietto di sondrio dopo quello la chiave non pensavo mai stai dicendo la radio offensiva no anzi il contrario raga l'ho appena trovato per terra che cazzo è stato no chi cazzo è stato no 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 scappa 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 no vuoi nel fiume run nooo no 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 ultimo vabbè no 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 wow sì è la pratica migliore buttarti in acqua quando ti seguono l'abbiamo fatto signori l'hai notato ma perché ti hanno iniziato a inseguire scusa che sono forse che sono forse loro sono forse e mi odiano per i scendori in italiano quindi attaccano tutti sostanzialmente il problema è che il gioco vorrebbe che io bloccassi che non scude se blocco con la l'ascetta non fa un cazzo mi stanno continuando a lanciare frecce guarda lì quanti problemi ti hanno visto scendere più per una cascata e ti rompono ancora il cazzo come si è che vorrei ottenere guarda quello sfigato che è saltato giù la cascata andiamo a vedere un po' di cazzo sta morendo il forse qualcosa lo sta uccidendo è un animale selvatico magari un troll mi fa ridere che hanno ficcato una freccia su quel culo a un pollo e poi mi stanno attaccando però devo arrivare a quel sasso che c'è c'è un avvertimento voglio arrivare a quel sasso che c'è lassù però perchè mi serve un blessing di qualche tipo si ti serve un blessing giù vai ho creato l'oggetto più stupido del gioco no ok mi rimetto sul cellulare è troppo scomodo la PC ragazzi è così che si sciarrampica giusto? si e mi ha provato ma lo sono moro mi выпle molipi monamera non puoi lanciarti nello spazio ok queste rapide non dovrebbero buttarmi giù subito ok è le parole comodo sono un salmone c'è un lupo che sta combattendo contro una capra è un po' dangerous The Lover Stone ah è quello che aumenta tutto un pochino figo The Lover Stone è un buon inizio ragazzi mi piace che si chiama diamanti ma che sono una donna da sola lì è l'amore di una donna da sola woman need no man esatto indipendente ok siamo letteralmente su una montagna non abbiamo livelli non abbiamo scudi non abbiamo un cazzo vai dungeon vado a prendere la coca per rendere tutto più mozzetto no specifica ma poi è fatto anche qualcuno ha fatto rumore col naso quindi era proprio perfetto io mi sono soffiato al naso in quel preciso istante non avevo intenzione allora facciamo adesso si dice soffiare facciamo una cosa vado una aspetta ok vado un attimo anch'io a pisciare vi lascio il vi lascio il ghoul li aumento le dimensioni momentaneamente grazie ok torno subito e dopo quando torni mettici anche Todd che dice il just works è molto inquietante questa si sta ballando questo è quello che vedi poco prima di morire è il grim reaper che ti viene a prendere in quel caso cosa puoi fare se non ballare con lui essere portato all'inferno dal grim reaper che sta default ballando o no per favore dai già sono morti e vado all'inferno se devo anche essere portato flossando o no no ma questa non è la default answer questa è l'orange kid è perfetto no no era per la canzoncina non era la default ma quello è il balletto dell'orange kid ok sono tornato adesso faccio tornare il ghoul delle sue dimensioni giuste e metti Todd dai ok just works avventuriero cosa? salute avventuriero salute avventuriero eh un maury salute avventuriero vediamo se ho un singolo Todd a qualche parte proprio io aggiungo un Todd a tavola e poi io rimaniamo aggiungi un Todd a tavola anse no è venuta un'idea migliore c'è uno scaricio in questo caso vero aiuto questo non è Todd questo è Colombo no that's funny no that's funny to me more ash fanny my wife no ma dove è Todd basta vuoi vedere commenti a Colombo già mi uno di questi giorni andiamo da Pasqua e ci vediamo a Colombo io l'avevo già proposto solo che era un po' impegnato ok questa è la facecam questo sono io ok ok dove è Skyrim? eccolo qua Skyrim ok possiamo ricominciare dove è Skyrim? dietro di te cosa dovevamo fare? forse Skyrim e ho gli amici che ci siamo fatti lungo la strada ok cosa stiamo facendo? dove stiamo andando? chiaramente non lo so ancora no no quello non si può fare andiamo nel mulino andiamo nel mulino con gli amici del mulino i miei mulino le mie macerie che magari bisogna che sia notte per la cara di mulagbaldo può essere si qua non mi segna nessun requisito patate le patate le patate con il mezzo magiatin ok ho capito andiamo a markart uffa mi chiazzalo solo le steagliate a mezzo puttano troia le tiravano un bestemmione la prima volta e maure ah fai come me se ti annui troppo guarda il tempo vola quando ti segui a livelli usciti dai sono atti di antistress quindi non possono essere bannabili in alcun modo ragazzi chi ci sta ascoltando mi ha un terapeuto le sceghe fanno bene un terapeuto esatto mi sono smutato le sceghe non sono bannabili non si sente su poche aspetta che controllo eccolo eccolo è comparso è comparso si si sente probabilmente era a farsi terapia anche lui che ne so ne so dai aiutiamo tirano tirano sa morire che nome di merda che nome di merda che ti ti dici che nome di merda che ti dici che nome di merda che ti dici fino fino parola perfetto sì ma che ragazze minchia scari mi riesce sempre a farmi venire fame sono un sacco di cibi formaggio pollo di poi sono così belli da vedere la zuppa di verdure ma che è pieno di soldi abbiamo fatto bene a venire qui ma santo cielo maledizione che succe sto facendo sto giocando al god of war e sto facendo le valchirie minchia fighe le valchirie si ma non è skyrim quindi non ci interessa ma pure c'è la valchiria mi ricordo sinceramente quale ti dà un oggetto che ti fai più danni contro le valchirie quindi nel caso espumole eh ho fatto più o meno tutte quelle di midgar eh ma non lo vedo quando le valchirie è proprio in una zona segreta dove devi fare un io ho capito ho capito ho capito i bracieri credo che sia quella di muspelheim quella dove c'hai la roba extra sì sì ho lì o a nifelheim non mi ricordo no 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 ma porco no 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 non mi ricordo dove sta è è un oggetto che trovi facendo i bracieri l'abbiamo ucciso noi mi ha shottato mi ha shottato ma che scema fai qualcosa effettivamente no ogni volta che muori devi mettere qualcosa di nuovo sullo schermo ho deciso sì ci ritroveremo lo schermo pieno di merda è quello bello ok ok la cosa sta smettendo di essere divertente riprendiamo le avventure di giovani dove eravamo rimaste quelle che avevamo salvato sondaggio va bene dai più che altro è perché non sta non fa più ridere va bene però aumentiamo la difficoltà va bene va bene è che cosa facciamo oltre a quello schifo continuiamo le avventure caricando non viene più si non fa più ridere finito ma comunque si ha vinto giugiano perché è riuscito ad arrivare il punto giugiano è arrivato avanti nella storia ha preso il primo to whom giugiano e poi l'ha ucciso sanso questo è sì perché era il judging e dopo quello che ha fatto agli animali oh cazzo cazzo è vero che ho appena aumentato la difficoltà mi stavo chiedendo mi stavo chiedendo perché mi sta facendo più male cazzo a questa difficoltà fa malissimo dove sei Fendal 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 please no please è tornato a casa si impare non faccio ora fulio hai oh my god che cazzo Fendal prendi bene la bira oh cazzo 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 Sì però metti pure set scale Andiamo a fare veramente gogira E' troppo piccolo ancora Set scale 200 Oh mio dio sta esplodendo Cosa succede? Oh no Porca cruia Porco di Basta Dove sei? Cosa succede? Ma voglio fare stecche con Alduin Cazzo non riesco a muovermi Non hai il dragon land Non mi serve c'ho una cinquina Sono troppo veloce così Aiuto Non riesco a fermarmi Io ho vieni idea Questa è in prima persona comunque Un attimo che ha un c Wow E' proprio la sky experience Io non so Oh c'era un ragno Don't stop me Aspetta aspetta metto un'auto Questa è davvero Vedi quella montagna Vedi quella montagna Super veloce sopra Ok Sì da Daniel Più per colare il beat Ok qual'è la missione? Trovare la tua dignità No Vai uccidere Alduin Dove fare tutta la terra Allora fai il complete Una quest principale Fai appicchiare il primo drago così A mani nude però Fai la quest principale Ma falla così Cioè non così per forza Però piena di mod Tipo Mettiti le skill al massimo Mettiti tutto al massimo Se mi ricordo il comando Perché da molto che non Eh sì Devo cercarlo Che lo scrivo Allora Player.setlevel E metti il numero E poi No 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 Player.setlevel Per il livello Del personaggio Ah non mi serve Quello Mi serve Quello Della Ah e Player.set skill No Player.ink Aspetta Player.ink Con la I maiuscola Sempre attaccato PCS No no Non l'ho mai usato Così No stai sbagliando Comando No no PCS maiuscolo No no Stai sbagliando Comando Aspetta Vado a cercare DEMOLERIEA Quando la corda Non si spezza Ah ok Aspetta Forse l'ho visto ADV Skill Eh ma Ma è strano No invece Mi sono appena Ricordato Però tutte Dai Diventa OP Diventa OP Sto aumentando I pugni Bravo Sembra La rumore Sembra La gif Del tizio Che fa La speedrun Boonebreaker E' un casino Riesci a cliccare Le cose Ok Com'è che è Reviar Reviar E' scritto Tutto attaccato Minuscolo Sono belle Perché vi faccio vedere Una cosa Fighissima Merda Odio Sta cazzo Ok Heavy armor C'è uno Un Tratto carino Che fa sì Che l'armatura Dei L'armatura Dei tuoi Come cazzo Dice L'armatura Dei tuoi guanti No Ok Si aggiunge I danni del Coi Dico Aspetta c'è un nemico Nervi e non mi fa Tredasportare Poi Solo che sto avendo Difficoltà Eccolo E' difficile mirare In queste condizioni E' ragno di prima Comunque E' sparito Non fai troppo male Dai mi aspettavo Peggio Mi ho shotati entrambi Sono ancora Godzilla Ho provato Gozilla Lucira Ok Pronti Let's go Speed Un po' meno speed Per carità Ok 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 Quanto è un buon quantitativo? Cento anche Siamo già sopra il centro Cioè sotto il centro No No Cinque Allora cinque Dieci era quella base Era Era lentissima dieci Ok quindi dieci è quella base No no dieci è più lento Cento è troppo veloce Settanta Vuoi settantacinque Sì infatti Ok Speed No è terribile Metti cinquanta Ok Eh ma decidi Tipo cianina Ok Dai E la Fai il tema di Benny Hill Rietro Non riesco a entrare nel buco Sono troppo veloce Eeeh For too sad Let my TJ No Sono sicuro che Giugiano Non abbia problemi di questo genere Anzi Se l'intendersi in troppo Ok Pasqui ci serve la Lori Dov'è che Giugiano Ha elaborato il suo più famoso incantesimo In prigione Ha senso Ha peccolo già Gli fai troppo poco male Perché siamo una massima di difficoltà Sciocchino No ti devi prendere Fai give item E metti il codice dell'armatura da Edric E ti metti quella con i pugni Aspetta adesso te lo cerco Item code Ma si Prima metto Per quello Ok Eeeh Perché non c'è l'armor Ora fulli vai Speed Speed La da Edric Armor è una sola Cazzo Sono incastrato dentro un muro Aiuto Fuck Ok l'ho trovato Pasqui Datti l'oggetto Ok player punto A Dai Teno più Eeeh La A maiuscola Ah no vabbè è uguale Eeeh L'ID è Zero 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 F Di Firenze Uno A di Ancona C di Como Oh Eeeh zero Ce l'abbiamo Dai che Che cazzo sono No li fa cadere mi sa No 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 Lui mi ricordavo Faceva cadere No No La provano Prova un'altra Un altro codice Prova un altro Perché ce ne sono qui E ce ne sono due qui Quindi magari Eeeh Devi mettere il numero È zero 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 Uno tre nove sei C Ok quindi Hai detto Zero 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 Uno tre nove Sei Ecco questi Me li ha dato Let's go Let's go L'uomo nudo L'uomo nudo L'uomo nudo Oh no No riuscire a risolvere il falso Ehi pace attraverso con TCL Sola per il flat side No non era TCL Guarda questa taccia di speedrun Che le conosce a memoria Ok eh Sì No non era TCL Sì sì Prova a scriverlo tutto a maiuscola Prova a scriverlo tutto a maiuscola Ovviamente TCL Eh qua c'è scritto toggle clipping on off Eh non sta andando Anche mi ricordo Forse devi premere Stai targettando qualcosa Stai targettando una cosa Devi premere Ma che cazzo Eh ok No Vai così Finiamolo così Skyrim No 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 Finiamolo così La squadra è importante Quindi questa è l'ultima cosa che facciamo oggi La mantaglia dei Kaiju L'ultima Skyrimata Non riesco a capire se lo sto preso Oh l'ho preso Ma svegli possiamo aumentare anche la sua velocità E' questa l'esperienza Skyrimer di cui arrivava Todd E' questa Funziona tutto E' tutto funzionando Non sto trovando il comando Era set player speed Set speed player Scusami, premi su No, premi su Finchè non te lo ritrova E' passato troppo tempo E' non te lo ritrova, scusa E' passati troppi comandi Vedi? Non va oltre così E' non era set av Non era set av Non era set av No, set av speed Ah, pazienza Ce l'avevi tre comandi, calcola Sì, l'ho visto tra i comandi Oh yeah, questi non funzionano Oh yeah, oh yeah Oh yeah Vedi, questi non funzionano No, 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 no Mentre stavi scorrendo Con il tasto su L'avevi selezionato uno Player punto set av No, perché E' uno di questi che ho appena scritto Ah no, eccolo Ok, quindi Te l'ho detto Quindi se io Se io premo su Riesco a trovare il modo di premere Su questo drawer Eh, mi sa che sia troppo grosso Sì, rosso Ok Penso di aver preso me stesso di nuovo Mettiti in prima persona, no? Eh, noi vediamo il ritardo qua Se non cammina è un po' difficile capire se funziona Vola Chi sa che funziona Tutto è molto Oh Questa è l'esperienza a schermo Pasqua, ma non stai colpendo Adesso muore, guarda Aiuto Che cosa sta succedendo? Oh Ti hai messo troppo La speed Te l'ha passata Speed O forse ti sta clipando, no? Ma Ti ha messo il moltiplicatore gigante Della speed O no? Mi ha Mi ha crashato Skyrim I giacquo I giacquo I giacquo E questo è il finale Fai il freddo I giacquo Hai sbattuto alla parete così in fretta Che si è crashato Skyrim Mi ha bloccato il PC Aiuto Aiuto Toad Toad please No Hai osato giocare con il codice di Skyrim Ora verrai punito Ma almeno si sta sentendo la stream Aiuto Ti ritrovi Toad nel letto nudo che di maionese Si sta sentendo Si vede nero Si vede tutto nero Mi sta crashando E' così che si muore Non hai capito Si sta crashando anche la stream Mi vede tutto nero con l'emotional support goal Esplorare risorse ha smesso di funzionare Aiuto E sei andato così veloce su Skyrim Che ha riccato il codice su Windows Ok ho ripreso il numero di controllo Wow Bello Skyrim Oh no si vede paint Cosa vuol dire Oh no Oh no Oh si Questa è Gigi E' molto contento E' Pikachu No è Gigi Eh Attenzione Molti lo confondono per Pikachu E' il nostro companion Ma questo è Questo è Sans È il cadavere Comunque sia Gigi ha sconfitto Sans E quindi prima questo è una vittoria Si Bellissimo che in quattro ore di live Siamo riusciti ad arrivare al primo boss E l'abbiamo abbazzato solo con i cheat E vabbè perché era la cazzo di cane Era per motivi di trama L'abbiamo fatta apposta Vabbè Vabbè fine della stream Grazie a tutti belli e brutti Ci vediamo fra un anno Oddio Che cazzo Anual Scatium experience Bye 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 Ciao 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 Ciao